OSEA, CAPITOLO PRIMO La parola dell'Eterno che fu rivolta a Osea, figliolo di Berri, ai giorni di Uzzia, di Giotan, Dacas, di Ezechieri, di Giuda, e ai giorni di Geroboamo, figliolo di Gioas, re di Israele. Quando l'Eterno cominciò a parlare ad Osea, l'Eterno disse ad Osea, Va, prenditi per moglie una meretrice e genera dei figlioli di prostituzione, perché il paese si prostituisce abbandonando l'Eterno. Ed egli andò e prese Gomer, figliola di Dibliam, ed essa concepì e gli partorì un figliolo, e l'Eterno gli disse, Mettigli nome Gizrael, poiché ancora un po' di tempo, ed io punirò la casa di Jehu a motivo del sangue sparso da Gizrael, e farò cessare il regno della casa di Israele, e in quei giorni avverrà che io spezzerò l'arco di Israele nella valle di Cidrael, ed essa concepì di nuovo e partorì una figliola. E l'Eterno disse ad Osea, Mettigli nome Lo Ruama, perché io non avrò più compassione della casa di Israele in guisa da perdonarla, ma avrò compassione della casa di Giuda, li salverò mediante l'Eterno il loro Dio. Non li salverò mediante l'arco, né la spada, né battaglia, né cavalli, né cavalieri. Or, quando ella ebbe divezzato Lo Ruama, concepì e partorì un figliolo, e l'Eterno disse a Osea, Mettigli nome Lo Ammi, poiché voi non siete mio popolo, e io non sono vostro. Non di meno il numero dei figlioli di Israele sarà come l'arena del mare che non si può misurare né contare, e avverrà che invece di dir loro come si diceva, Voi non siete mio popolo, sarà loro detto, siete figlioli dell'Iddio vivente. E i figlioli di Giuda e i figlioli di Israele si aduneranno assieme, e si daranno un capo unico, e saliranno fuori del paese, poiché è grande, è il giorno di Israel. Osea, capitolo secondo Dite ai vostri fratelli, Ammi, e alle vostre sorelle, Ruama. Contendete con vostra madre, contendete, poiché essa non è mia moglie, né io son suo marito. Allontani dalla sua faccia le sue prostituzioni e i suoi adulteri, di fra le sue mammelle, altrimenti io la spoglierò nuda, la metterò com'era nel dì che nacque, la renderò simile ad un deserto, la ridurrò come una terra arrida, la farò morir di sete. E non avrò pietà dei suoi figlioli, perché son figlioli di prostituzione, giacché la madre loro si è prostituita. Colei che li ha concepiti ha fatto cose vergognose, poiché ha detto, andrò dietro a miei amanti che mi hanno dato il mio pane, la mia acqua, la mia lana, il mio lino, il mio olio, le mie bevande. Perciò, ecco, io ti sbarrerò la via con delle spine, la circonderò d'un muro sì che non troverà più i suoi sentieri, e correrà dietro ai suoi amanti ma non li raggiungerà, li cercherà ma non li troverà. E allora dirò, tornerò al mio primo marito, perché allora stavo meglio da adesso. Essa non ha riconosciuto che ero io che le davo il grano, il vino, l'olio, che le prodigavo l'argento e l'oro di cui essi hanno fatto uso per Baal. Perciò io riprenderò il mio grano a suo tempo e il mio vino nella sua stagione, e le strapperò la mia lana e il mio lino che servivano a coprire la sua nudità. Ed ora scoprirò la sua vergogna agli occhi dei suoi amanti e nessuno la salverà dalla mia mano. E farò cessare tutte le sue gioie, le sue feste, i suoi noviluni, i suoi sabati e tutte le sue solennità. E devasterò le sue vigne e i suoi fichi, di cui diceva, sono il salario che ho mandato i miei amanti, e li ridurrò in un bosco e le bestie della campagna le divorranno. E la punirò a motivo dei giorni dei Baali, quando offriva loro profumi e s'adornava dei suoi pendenti e dei suoi gioielli, e se ne andava dietro ai suoi amanti e mi dimenticava, dice l'Eterno. Perciò, ecco, io la trarrò, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore. Di là le darò le sue vigne e la valle d'Acor come porta di speranza. Quivi, ella mi risponderà come ai giorni della sua giovinezza, come ai giorni che uscì fuori dal paese d'Egitto. E in quel giorno avverrà, dice l'Eterno, che tu mi chiamerai marito mio, e non mi chiamerai più mio Baal. Io torrò via dalla sua bocca i nomi di Baal, ed il loro nome non sarà più mentovato. E in quel giorno io farò per loro un patto con le bestie dei campi e con gli uccelli del cielo e con i rettili del suolo, e spezzerò e allontanerò dal paese l'arco, la spada, la guerra, e farò che essi riposino al sicuro. E io ti fidanzerò a me per l'eternità, ti fidanzerò a me in giustizia, in equità, in benignità e in compassioni, ti fidanzerò a me in fedeltà, e tu conoscerai l'Eterno. E in quel giorno avverrà che io ti risponderò, dice l'Eterno, risponderò dal cielo, ed esso risponderà alla terra, e la terra risponderà al grano, al vino, all'olio, e questi risponderanno a Jezaril, e io lo seminerò per me in questa terra, e avrò compassione di Loruama, e dirò all'Ohammi, tu sei il mio popolo, ed egli mi risponderà, mio Dio. Osea capitolo terzo E l'Eterno mi disse, va ancora, e ama una donna amata da un'amante adultera, come l'Eterno ama i figlioli di Israele, i quali anch'essi si volgono ad altri dèi, e amano le schiacciate d'uva. Io me la comprai dunque per quindici sicli d'argento, per un omer d'orso, e per un letech d'orso, e le dissi, statene per parecchio tempo aspettando me, non ti prostituire, e non darti ad alcun uomo, e io farò lo stesso per te, poiché i figlioli di Israele staranno per parecchio tempo senza re, senza capo, senza sacrificio, senza statua, senza efode, senza idoli domestici. Poi i figlioli di Israele torneranno a cercare l'Eterno, il loro Dio, e Davide, il loro re, e ricorreranno tremanti all'Eterno e alla sua bontà negli ultimi giorni. Osea capitolo quarto Ascoltate la parola dell'Eterno, o figlioli di Israele, poiché l'Eterno ha una contestazione con gli abitanti del paese, poiché non v'è né verità, né misericordia, né conoscenza di Dio nel paese. Si spergiura, si mentisce, si uccide, si ruba, si commette adulterio, si rompe ogni limite, sangue tocca sangue. Per questo il paese sarà in lutto. Tutti quelli che l'abitano languiranno, e con essi le bestie dei campi e gli uccelli del cielo, perfino i pesci del mare scompariranno. Pur non di meno nessuno contenda, nessuno rimproveri, poiché il tuo popolo è come quelli che contendano col sacerdote. Perciò tu cadrai di giorno, e anche il profeta cadrà con te di notte, e io distruggerò tua madre. Il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza, poiché tu hai disdegnata la conoscenza, e anch'io sdegnerò d'averti per sacerdote, giacché tu hai dimenticata la legge del tuo Dio, anch'io dimenticherò i tuoi figliuoli. Più si son moltiplicati, e più hanno peccato contro di me. Io muterò la loro gloria in ignominia. Si nutrono dei peccati del mio popolo, e il loro cuore brama la sua iniquità, e sarà del sacerdote quello che è del popolo, ed io lo punirò per la sua condotta, e gli darò la retribuzione delle sue azioni. Mangeranno, ma non saranno saziati, si prostituiranno, ma non moltiplicheranno, poiché hanno disertato il servizio dell'Eterno. Prostituzione, vino e mosto tolgono il senno. Il mio popolo consulta il suo legno, e il suo bastone gli dà delle istruzioni, poiché lo spirito della prostituzione lo svia. Egli si prostituisce sottraendosi al suo Dio, sacrificano sulla sommità dei monti, offron profumi sui colli, sotto la quercia, il pioppo, il terebinto, perché l'ombra ne è buona, perciò le vostre figliuole si prostituiscono, e le vostre nuore commettano adulterio. Io non punirò le vostre figliuole perché si prostituiscano, né le vostre nuore perché commettano adulterio, poiché essi stessi s'appartano con le meretrici, e sacrificano con donne impudiche, e il popolo che è senza intelletto corre alla rovina. Sei tu, o Israele, sei tu, o Israele, se ti prostituisci, Giuda almeno non ti renda colpevole. Non andate a Gilgal, e non salite a Bethéven, non giurate dicendo, vive l'Eterno, poiché Israele restio come una giovenca restia, ora l'Eterno lo farà pacere come un agnello abbandonato a largo. Efraim, se è congiunto con gli idoli, lascialo. Quando hanno finito di sbevezzare, si danno alla prostituzione, i loro capi amano con passione l'ignominia, il vento si legherà a Efraim, alle proprie ali, ed essi avranno vergogna dei loro sacrifici. Osea, capitolo quinto Ascoltate questo, o sacerdoti, state attenti, voi della casa d'Israele, porgete l'orecchio, voi della casa del re, poiché contro di voi è il giudizio, perché siete stati un laccio a Mitzpah e una reta tesa sul Tabor. Coi loro sacrifici rendon più profonde le loro infedeltà, ma io li castigherò tutti. Io conosco Efraim e Israele, e non mi occulto, perché ora, Efraim, tu ti sei prostituito, e Israele si è contaminato. Le loro azioni non permettano loro di tornare al loro Dio, poiché lo spirito di prostituzione è in loro, e non conoscono l'Eterno. Ma l'orgoglio di Israele testimonia contro di lui, e Israele ed Efraim cadranno per la loro iniquità, e Giuda pure cadrà con essi. Andranno quei loro greggi e con le loro mandri in cerca dell'Eterno, ma non lo troveranno. Egli si è ritirato da loro. Hanno agito perfidamente contro l'Eterno, poiché han generato dei figliuoli bastardi. Ora basterà un mese a divorarli coi loro beni. Suonate il corno in Ghibea, suonate la tromba in Rama, date l'allarme a Beth-haven, alle tue spalle, O Beniamino, Efraim sarà desolato nel giorno del castigo. Io annunzio fra le tribù di Israele una cosa certa. I capi di Giuda sono come quelli che spostano i termini. Io riverserò la mia ira su loro come acqua. Efraim è oppresso, schiacciato nel suo diritto perché ha seguito i precetti che più gli piacevano. Perciò io sono per Efraim come una tignola e per la casa di Giuda come un tarlo. Quando Efraim ha veduto il suo male e Giuda la sua piaga, Efraim è andato verso la Siria e ha mandato dei messi a un re che lo difendesse. Ma questi non potrà risanarvi né vi guarirà dalla vostra piaga poiché io sarò per Efraim come un leone e per la casa di Giuda come un leoncello. Io, io sbranerò e me ne andrò, porterò via e non vi sarà chi salvi. Io me ne andrò e tornerò al mio luogo finché essi non si riconoscano colpevoli e cerchi in la mia faccia quando saranno nell'angoscia ricorranno a me. Osea capitolo sesto e diranno venite torniamo all'eterno perché egli ha lacerato ma ci risanerà ha percosso ma ci fascerà in due giorni ci ridarà la vita il terzo giorno ci rimetterà in piedi e noi vivremo alla sua presenza conosciamo l'eterno sforziamoci di conoscerlo il suo levarsi è certo come quello dell'aurora egli verrà e noi come la pioggia come la pioggia di primavera che annaffia la terra che ti farò o Efraim che ti farò o Giuda la vostra pietà è come una nuvola mattutina come la rugiada che di buonora scompare per questo li taglio con la scure dei profeti li uccido con le parole della mia bocca e il mio giudizio verrà fuori come la luce poiché io amo la pietà e non i sacrifici e la conoscenza di Dio anziché gli olocausti ma essi come Adamo hanno trasgredito il patto si sono condotti perfidamente verso di me Galahad è una città d'operatori di iniquità è coperta a dorme di sangue come una banda di briganti aspetta la gente così fa la congrega dei sacerdoti assassinano sulla via di Sichen commettono scelleratezze nella casa d'Israele ho visto cose orribili là è la prostituzione d'Efrem là Israele si contamina a te pure o Giuda una messa assegnata quando io ricondurrò dalla cattività il mio popolo Osea capitolo settimo quando ho voluto guarire Israele allora si è scoperta l'iniquità d'Efrem e la malvagità di Samaria poiché praticano la falsità il ladro entra e i briganti scorrazzano fuori e non dicano in cuor loro che io tengo a mente tutta la malvagità ora le loro azioni li circondano esse stanno davanti alla mia faccia essi rallegrano il re con la loro malvagità e i capi con le loro menzogne sono tutti degli adulteri sono come un forno scaldato dal fornaio che cezza attizzare il fuoco da che ha intriso la pasta finché sia lievitata nel giorno del nostro re i capi si rendono malati a forza di scaldarsi col vino il re stende la mano ai giullari e nelle loro insidie essi rendono il cuore loro simile a un forno il loro fornaio dorme tutta la notte e la mattina il forno arde come un fuoco divampante tutti sono ardenti come un forno e divorano i loro reggitori tutti i loro re cadono non ve ne uno fra loro che gridi a me Efraim si mescola coi popoli Efraim è una focaccia non rivoltata degli stranieri divorano la sua forza ed egli non vi pon mente dei capelli bianchi li appaiono qua e là sul capo ed egli non vi pon mente l'orgoglio di Israele testimonia contro di lui ma essi non tornano all'eterno al loro dio e non lo cercano nonostante tutto questo Efraim è come una colomba stupida e senza giudizio essi invocano l'Egitto vanno in Assiria mentre andranno io stenderò su loro la mia rete ve li farò cascare come gli uccelli del cielo li castigherò come annunziato nella loro radunanza guai a loro poiché si sono sviati da me rovina su loro perché mi si sono ribellati io li redimerei ma essi dico menzogne contro di me essi non gridano a me col cuor loro ma si lamentano sui loro letti si radunano ansiosi per il grano e il vino e si ribellano a me io li ho educati ho fortificato le loro braccia ma essi macchinano del male contro di me essi tornano ma non all'altissimo sono diventati come un arco fallace i loro capi cadranno per la spada a motivo della rabbia della loro lingua nel paese d'Egitto si faranno beffe di loro osea capitolo ottavo imbocca il corno come un'aquila piomba il nemico sulla casa dell'eterno poiché han violato il mio patto han trasgredito la mia legge essi grideranno a me mio dio noi di israele ti conosciamo israele ha in avversione il bene e il nemico lo inseguirà si sono stabiliti dei re senza ordine mio si sono eletti dei capi a mia insaputa si sono fatti con loro argento e con loro oro degli idoli destinati ad essere distrutti il tuo vitello Samaria è un'abominazione la mia ira è accesa contro di loro quanto tempo passerà prima che possano essere assolti poiché vien da israele che questo vitello un operaio l'ha fatto e non è un dio e infatti il vitello di Samaria sarà ridotto in frantumi poiché costoro seminano vento e mieteranno tempesta la semenza non farà stelo e i germogli non daranno farina e se ne facessero gli stranieri la divorerebbero israele è divorato essi sono divorati fra le nazioni come un vaso di cui non si fa caso poiché sono saliti in Assiria come un agaro cui piace appartarsi Efraim coi suoi doni si è procurato degli amanti benché spandano i loro doni fra le nazioni ora io li radunerò e cominceranno a crescere sotto il peso del re dei principi Efraim ha moltiplicato gli altari per peccare e gli altari lo faranno cadere in peccato scrivesi pur per lui le mie leggi e in miriadi sarebbero considerate come una cosa che non la concerne quanto ai sacrifici che moffrano immolano carne e la mangiano l'Eterno non li gradisce ora l'Eterno si ricorderà della loro iniquità e punirà i loro peccati essi torneranno in Egitto Israele ha dimenticato colui che li ha fatti e ha edificato palazzi e Giuda ha moltiplicato le città fortificate ma io manderò il fuoco nelle loro città ed esso divorerà i loro castelli Osea capitolo nono non ti rallegrare o Israele fino all'esultanza come i popoli poiché ti sei prostituito abbandonando il tuo Dio hai amato il salario della prostituzione e soprattutto le ae da frumento l'aia e lo strettoio non li nutriranno e il mosto deluderà la loro speranza essi non dimoreranno nel paese dell'Eterno ma Efra tornerà in Egitto e in Assiria mangeranno cibi impuri non faranno più libazioni di vino all'Eterno i loro sacrifici non gli saranno accetti saranno per essi come un cibo di lutto chiunque ne mangerà sarà contaminato poiché il loro pane sarà per loro non entrerà nella casa dell'Eterno che farete nei giorni delle solennità e nei giorni di festa dell'Eterno poiché ecco essi se ne vanno a motivo della devastazione l'Egitto li raccoglierà Menfi li seppelirà le loro cose preziose comprate con denaro le possederanno le ortiche le spine cresceranno nelle loro tende i giorni della punizione vengono vengono i giorni della retribuzione e Israele lo saprà il profeta è fuori dei sensi l'uomo ispirato è in delirio a motivo della grandezza della tua iniquità e della grandezza della tua ostilità Efraim sta alla vendetta alla vedetta contro il mio Dio il mio profeta trova un laccio d'uccellatore su tutte le sue vie e ostilità nella casa del suo Dio essi si sono profondamente corrotti come ai giorni di Ghibea l'Eterno si ricorderà della loro iniquità e punirà i loro peccati io trovai Israele come delle uve nel deserto vidi i vostri padri come i fichi primaticci di un fico che frutta la prima volta ma non appena giunsero a Baal Peor si appartarono per darsi all'ignominia all'idoli e divennero abominevoli come la cosa che amavano la gloria d'Efraim volerà via come un uccello non più nascita non più gravidanza non più concepimento seppur allevano i loro figlioli io li priverò d'essi a guisa che non rimanga loro alcun uomo si guai ad essi quando malantonallerò da loro Efraim quando io lo vedo stendendo lo sguardo fino a tiro è piantato in un luogo sgradevole ma Efraim dovrà menare i suoi figlioli a colui che li ucciderà da loro o eterno che darai loro tu da loro un seno che abortisce delle mammelle asciutte tutta la loro malvagità a Gilgal qui vi li ho presi in odio per la malvagità delle loro azioni li cacerò dalla mia casa non li amerò più tutti i loro capi sono ribelli Efraim è colpito la sua radice è seccata essi non faranno più frutto anche se generassero io li farei morire i cari frutti delle loro viscere il mio Dio li ricetterà poiché non gli han dato ascolto ed essi andranno errando fra le nazioni Osea capitolo decimo Israele era una vigna lussureggiante che dava frutto in abbondanza più abbondava il suo frutto e più moltiplicava gli altari più bello era il suo paese e più belle faceva le sue statue il loro cuore è ingannatore ora ne porteranno la pena egli abbatterà i loro altari distruggerà le loro statue sì allora diranno non abbiamo più re poiché non abbiamo ottemuto l'eterno e il re che potrebbe fare per noi essi dicono delle parole giurano il falso fermano patti perciò il castigo germoglia come erba benefica nei solchi dei campi gli abitanti di Samaria trepideranno per le vitelle di Beth-Even sì il popolo farà cordoglio per l'idolo e i suoi sacerdoti tremeranno per esso per la sua gloria poiché ella si dipartirà da lui e l'idolo stesso sarà portato in Assiria come un dono al re difensore e la vergogna si impadronirà ad Efraim e Israele sarà coperto d'onta per i suoi disegni quanto a Samaria il suo re sarà annientato come schiuma sull'acqua gli alti luoghi di Aven peccato di Israele saranno pure distrutti le spine e i rovi cresceranno sui loro altari ed essi diranno ai monti copritici e ai colli cadetici addosso fin dai giorni di Ghibea tu hai peccato Israele qui li essi resterattero perché la guerra mossa ai figlioli dell'iniquità non li colpisse in Ghibea io li castigherò a mio talento e i popoli si aduneranno contro di loro saranno legati alle loro due iniquità Efraim è una giovenca ben ammaestrata che ama trebbiare ma io passerà il mio gioco sul suo bel collo attaccherò Efraim al carro giudarerà Giacobbe erpicherà seminate secondo la giustizia mettete secondo la misericordia dissodatevi un campo nuovo poiché è tempo di cercare l'eterno finché egli non venga e non spanda su voi la pioggia della giustizia voi avete arata la malvagità avete metuto l'iniquità avete mangiato il frutto della menzogna poiché tu hai confidato nelle tue vie e nella moltitudine dei tuoi prodi perciò un tumulto si leverà fra il tuo popolo e tutte le tue fortezze saranno distrutte come Salman distrusse Bet Arbel il dì della battaglia quando la madre fu schiacciata coi figliuoli così si farà a Beto a motivo della vostra immensa malvagità all'alba il re di Israele sarà perduto senza rimedio Osea capitolo undicesimo quando Israele era fanciullo io l'amai e fin dall'Egitto chiamai il mio figliuolo egli è stato chiamato ma si è allontanato da chi lo chiamava hanno sacrificato ai bali hanno offerto profumi a immagine scolpite sono io che insegnai ad Efraim a camminare sorreggendolo per le braccia ma essi non hanno riconosciuto che io cercavo di guarirli io li attiravo con corde umane con legami d'amore ero per loro come chi so levasse il gioco d'insulle loro mascelle e porgevo loro dolcemente da mangiare Israele non tornerà nel paese d'Egitto ma l'assiro sarà il suo re perché hanno rifiutato di convertirsi e la spada sarà brandita contro le sue città ne spezzerà le sbarre ne divorerà gli abitanti a motivo dei loro disegni il mio popolo persiste a sviarsi da me lo si invita a guardare in alto ma nessun dessi alza lo sguardo come farei a lasciarti o Efraim come farei a darti mano d'altrui o Israele a renderti simile ad Adma a ridurti allo stato di Zeboim il mio cuore si commuove tutto dentro di me tutte le mie compassioni si accendono io non sfogherò l'ardente mia ira non distruggerò Efraim di nuovo perché sono il Dio e non un uomo sono il Santo in mezzo a te e non verrò nel mio furore essi seguiranno l'Eterno che ruggirà come un leone poiché egli ruggirà e figliuoli accorreranno in fretta dall'Occidente accorreranno in fretta dall'Egitto come uccelli e dal paese da Siria come colombe e io li farò abitare nelle loro case dice l'Eterno Osea capitolo dodicesimo Efraim mi circonda di menzogne e la casa Israele di frode Giuda pure è sempre ancora incostante di fronte a Dio e di fronte al Santo fedele Efraim si pasce di vento e va dietro al vento d'Oriente ogni giorno moltiplica le menzogne e le violenze e falleanza con la Siria e porta dell'olio in Egitto l'Eterno è anche in lite con Giuda e punirà Giacobbe per la sua condotta gli renderà secondo le sue opere nel seno materno egli prese il fratello per il calcagno e nel suo vigore lottò con Dio lottò con l'angelo e restò vincitore egli pianse e lo supplicò a bete lo trovò e qui vi gli parlò con noi or Eterno è l'iddio degli eserciti e il suo nome è l'Eterno tu dunque ritorna al tuo Dio pratica la misericordia e la giustizia e spera sempre nel tuo Dio Efraim è un cananeo che tiene in mano bilance false egli ama e storcere Efraim dice è vero mi sono arricchito mi sono acquistato dei beni però in tutti i frutti delle mie fatiche non si troverà alcuna mia iniquità allorché si sia di peccaminoso ma io sono l'Eterno il tuo Dio fin dal paese d'Egitto io ti farò ancora abitare in tende come nei giorni di solennità ed ho parlato ai profeti ho moltiplicato le visioni e per mezzo dei profeti ho proposto parabole se Galahad è vanità sarà ridotto in nulla a Gilgal immolano buoi così i loro altari saranno mucchi di pietra e sui solchi dei campi Giacobbe fuggì nella pianura da Aram Israele servì per una moglie e per una moglie si fe guardiano di greggi mediante un profeta l'Eterno trasse Israele fuori d'Egitto e Israele fu costudito da un profeta Efraim ha provocato amaramente il suo signore perciò questi gli farà ricadere addosso il sangue che ha versato e farà tornare su di lui i suoi opprobri Osea capitolo tredicesimo quando Efraim parlava era uno spavento egli si era innalzato in Israele ma quando si rese colpevole col servire Abbaal morì e ora continuano a peccare si fanno col loro argento delle immagini fuse degli idoli di loro invenzione che sono tutti opera d'artefici e di loro si dice scannano uomini e baciano i vitelli perciò saranno come la nuvola mattutina come la rugiada che di buonora scompare come la pula che il vento porta via nell'aia come il fumo che esce dalla finestra eppure io sono l'eterno il tuo dio fin dal paese d'egitto e tu non devi riconoscere altro dio fuori di me e fuori di me non c'è altro salvatore io ti conobbi nel deserto nel paese della grande aridità quando avevano pastura si saziavano quando erano sazi il loro cuore si inorgogliva perciò mi dimenticarono ond'è che io sono diventato per loro come un leone e li spierò sulla strada come un leopardo li affronterò come un'orsa privata dei suoi piccini e sbranerò loro l'involucro del cuore e li divorerò come una leonessa le belve dei campi li squarceranno è la tua perdizione o Israele l'essere contro di me contro il tuo aiuto dov'è dunque il tuo re ti salvi egli in tutte le tue città e dove sono i tuoi giudici dei quali dicevi dammi un re e dei capi io ti ho dato un re nella mia ira e te lo ripiglio nel mio furore l'iniquità di Efraim è legata in fascio il suo peccato è tenuto in serbo dolori di donna di parto verranno per lui egli è un figliuolo non savio poiché quando è giunto il momento non si presenta per nascere io li riscatterei dal potere del soggiorno dei morti li redimerei dalla morte sarei la tua peste o morte sarei la tua distruzione o soggiorno dei morti ma il loro pentimento è nascosto agli occhi miei sia egli pur fertile tra i suoi fratelli il vento d'oriente verrà il vento dell'eterno che sale dal deserto e le sue sorgenti saranno essiccate e le sue fonti prosciugate il nemico porterà via il tesoro dei suoi oggetti preziosi Samaria sarà punita nella sua colpa poiché si è ribellata al suo Dio cadranno per la spada i loro bambini saranno schiacciati le loro donne incinte saranno sventrate Osea capitolo quattordicesimo O Israele torna all'eterno al tuo Dio poiché tu sei caduto per la tua iniquità prendete con voi delle parole e tornate all'eterno diteli perdona tutta l'iniquità e accetta questo bene e noi t'offriremo invece di giovenchi l'offerta di lode delle nostre labbra la Siria non ci salverà noi non monteremo più su cavallo e non diremo più Dio nostro all'opera delle nostre mani poiché presso di te l'orfano trova misericordia io guarirò la loro infedeltà e li amerò di cuore poiché la mia ira si è stornata da loro io sarò per Israele come la rugiada egli fiorirà come il giglio e spanderà le sue radici come il libano i suoi rami si stenderanno la sua bellezza sarà come quella dell'ulivo e la sua fragranza come quella del libano quelli che abiteranno alla sua ombra faranno di nuovo crescere il grano e fioriranno come la vite saranno famosi come il vino del libano Efraim potrà dire che cosa ho io più da fare con gli idoli io lo esaudirò e veglierò su lui io che sono come un verdeggiante cipresso da me verrà il tuo frutto chi è savio ponga mente a queste cose chi è intelligente le riconosca poiché le vie dell'eterno sono rette i giusti cammineranno per esse ma i trasgressori vi cadranno Geremia capitolo primo parole di Geremia figliuolo di Ilchia uno dei sacerdoti che stavano ad Anatot nel paese di Beniamino la parola dell'Eterno gli fu rivolta al tempo di Giosia figliuolo di Amon re di Giuda l'anno tredicesimo del suo regno e al tempo di Gioia Chin figlio di Giosia re di Giuda sino alla fine dell'anno undicesimo di Sedechia figliuolo di Giosia re di Giuda fino a quando Gerusalemme fu menata in cattività il che avvenne nel quinto mese la parola dell'Eterno mi fu rivolta dicendo prima che io ti avessi formato nel seno di tua madre io t'ho conosciuto e prima che tu uscissi dal suo seno io t'ho consacrato e t'ho costituito profeta delle nazioni ed io risposi ahimè Signore Eterno io non so parlare poiché non sono che un fanciullo ma l'Eterno mi disse non dire sono un fanciullo poiché tu andrai da tutti quelli ai quali ti manderò e dirai tutto quello che io ti comanderò non li temere perché io son teco per liberarti dice l'Eterno poi l'Eterno stese la mano e mi toccò la bocca e l'Eterno disse ecco io ho messo le mie parole nella tua bocca vedi io ti costituisco oggi sulle nazioni e sopra i regni per svellare per demolire per abbattere per distruggere per edificare e per piantare poi la parola dell'Eterno mi fu rivolta dicendo Geremia che vedi ed io risposi vedo un ramo di mandorlo e l'Eterno mi disse hai veduto bene poiché io vigilo sulla mia parola per mandarla d'effetto e la parola dell'Eterno mi fu rivolta per la seconda volta dicendo che vedi ed io risposi vedo una caldaia che bolle e ha la bocca avvolta dal settentrione in qua e l'Eterno mi disse dal settentrione verrà fuori la calamità su tutti gli abitanti del paese poiché ecco io sto per chiamare tutti i popoli dei regni del settentrione dice l'Eterno essi verranno e porranno ognuno il suo trono all'ingresso delle porte di Gerusalemme contro tutte le sue mura all'intorno e contro tutte le città di Giuda e pronunzierò i miei giudizi contro di loro a motivo di tutta la loro malvagità perché m'hanno abbandonato e hanno offerto il loro profumo ad altri dei e si sono prostrati dinnanzi all'opera delle loro mani tu dunque cingiti lombi levati e di loro tutto quello che io ti comanderò non ti sgomentare per via di loro on Dio non ti renda sgomento in loro presenza ecco oggi io ti stabilisco come una città fortificata come una colonna di ferro e come un muro di rame contro tutto il paese contro i re di Giuda contro i suoi principi contro i suoi sacerdoti e contro il popolo del paese essi ti faranno la guerra ma non ti vinceranno perché io son teco per liberarti dice l'Eterno Geremia capitolo secondo la parola dell'Eterno mi fu ancora rivolta dicendo va e grida agli orecchi di Gerusalemme così dice l'Eterno io mi ricordo dell'affezione che avevi per me quando eri giovane del tuo amore quando eri fidanzata allorché tu mi seguivi nel deserto in una terra non seminata Israele era consacrato all'Eterno le primizie della sua rendita tutti quelli che lo divoravano si rendevano colpevoli e la calamità piombava su loro dice l'Eterno ascoltate la parola dell'Eterno o casa di Giacobbe voi tutte le famiglie della casa di Israele così parla l'Eterno quale iniquità hanno trovato i vostri padri in me che si sono allontanati da me e sono andati dietro alla vanità e sono essi diventati essi stessi vanità essi non hanno detto dov'è l'Eterno che ci ha tratti fuori del paese d'Egitto che ci ha menati per il deserto per un paese di solitudine di crepacci per un paese di aridità e d'ombra di morte per un paese per il quale nessuno passò mai e dove non abitò mai nessuno e io v'ho condotti in un paese che è un frutteto perché ne mangiaste i frutti e i buoni prodotti ma voi quando vi siete entrati avete contaminato il mio paese e avete fatto della mia eredità un'abominazione i sacerdoti hanno detto dov'è l'Eterno e i depositori della legge non l'hanno conosciuto i pastori mi sono stati infedeli i profeti hanno profetato nel nome di Baal e sono andati dietro a cose che non giovano a nulla perciò io contenderò ancora in giudizio con voi dice l'Eterno e contenderò con i figlioli dei vostri figlioli passate dunque nelle isole di Chittime e guardate mandate a chedare ed osservate bene e guardate se avvenne mai qualcosa di simile va egli una nazione che abbia cambiato i suoi dei quantunque non siano dei ma il mio popolo ha cambiato la sua gloria perciò che non giova a nulla o cieli stupite di questo inorridite e restate attoniti dice l'Eterno poiché il mio popolo ha commesso due mali ha abbandonato me la sorgente d'acqua viva e si è scavato delle cisterne delle cisterne screpolate che non contendono acqua Israele è egli uno schiavo è egli uno schiavo nato in casa perché dunque è egli diventato una preda i leuncelli ruggono contro di lui e fanno dire la loro voce e riducono il suo paese in una desolazione le sue città sono arse e non vi son più abitanti e perfino gli abitanti di Nof e di Tafanes li divorano il cranio tutto questo non ti succede egli perché hai abbandonato l'Eterno il tuo Dio mentre egli ti menava per la buona via ed ora che hai tu da fare sulla via che mena in Egitto per andare a bere l'acqua del Nilo o che hai tu da fare sulla via che mena in Assiria per andare a bere l'acqua del fiume la tua propria malvagità è quella che ti castiga e le tue infedeltà sono la tua punizione sappi dunque e vedi che mala e amara cosa è abbandonare l'Eterno il tuo Dio e il non aver di me alcun timore dice il Signore l'Eterno degli eserciti già da lungo tempo tu hai spezzato il tuo gioco rotti i tuoi legami e hai detto non voglio più servire ma sopra ogni alto colle e sotto ogni albero verdeggiante ti sei buttata giù come una prostituta eppure io t'avevo piantato come una nobile vigna tutta del miglior ceppo come dunque mi ti sei mutato in rampolli degenerati di una vigna straniera quando tu ti lavassi col nitro e usassi molto sapone la tua iniquità lascerebbe una macchia dinanzi a me dice il Signore l'Eterno come puoi tu dire io non mi sono contaminata non sono andata dietro ai bal guarda i tuoi passi nella valle riconosce quello che hai fatto dromedaria leggera e vagabonda asina salvatica avvezza al deserto che aspira l'aria dell'ardore della sua passione che le impedirà di soddisfare la sua brama tutti quelli che la cercano non hanno da affaticarsi la trovano nel suo mese guarda che il tuo piede non si scalzi e che la tua gola non si narridisca ma tu hai detto non c'è rimedio io no io amo gli stranieri e ando dietro a loro come il ladro è confuso quando è colto sul fatto così sono confusi quelli della casa di Israele essi i loro re i loro capi i loro sacerdoti e i loro profeti i quali dicono al legno tu sei mio padre e alla pietra tu ci hai dato la vita poiché essi mi han voltato le spalle e non la faccia ma nel tempo della loro sventura dicano levati e salvaci e dove sono i tuoi dei che ti sei fatti si levino se ti possono salvare nel tempo della tua sventura perché o Giuda tu hai tanti dei quante città perché contendereste meco voi tutti mi siete stati infedeli dice l'Eterno in vano ho colpito i vostri figlioli non ne hanno ricevuto correzione la vostra spada ha divorato i vostri profeti come un leone distruggitore o generazione considera la parola dell'Eterno sono io stato un deserto per Israele o un paese di fitte tenebre perché dice il mio popolo noi siamo liberi non vogliamo tornare più a te la fanciulla può essa dimenticare i suoi ornamenti o la sposa la sua cintura eppure il mio popolo ha dimenticato me da giorni innumerevoli come sei brava a trovare la via per correre dietro ai tuoi amori perfino alle male femmine hai insegnato i tuoi modi fino nei lembi della tua veste si trova il sangue di poveri innocenti che tu non hai colto in flagrante delitto di scasso oppure dopo tutto questo tu dici io sono innocente certo l'ira sua si è stornata da me ecco io entrerò in giudizio con te perché hai detto non ho peccato perché hai tanta premura di mutare il tuo cammino anche dall'egitto riceverai confusione come già l'hai ricevuta dalla siria anche di là uscirai con le mani sul capo perché l'eterno rigetta quelli nei quali tu confidi e tu non riuscirai nel tuo intento per loro mezzo Geremia capitolo terzo l'eterno dice se un uomo ripudia la sua moglie e questa se ne va da lui e si marita un altro quell'uomo torna di forse ancora da lei il paese stesso non ne sarebbe di tutto profanato e tu che ti sei prostituita con molti amanti ritorneresti a me dice l'eterno alza gli occhi verso le alture e guarda dov'è che non ti sei prostituita tu sedevi per le vie ad aspettare passanti come fa l'arabo nel deserto e hai contaminato il paese con le tue prostituzioni e con le tue malvagità perciò le grandi piogge sono state trattenute e non v'è stata pioggia di primavera ma tu hai avuto una fronte da prostituta e non hai voluto vergognarti ed ora non è egli vero tu gridi a me padre mio tu sei stato l'amico della mia giovinezza sarà egli adirato in perpetuo serberà egli la sua ira sino alla fine ecco tu parli così ma intanto commetti a tutto potere delle mali azioni l'eterno mi disse al tempo del re giosia hai tu veduto quello che l'infedele israele ha fatto è andata sopra ogni alto monte sotto ogni albero verdeggiante e qui vi si è prostituita io dicevo dopo che avrà fatto tutte queste cose essa tornerà a me ma non è ritornata e la sua sorella la perfida giuda l'ha visto e benché io avessi riputato infedele israele a cagioni di tutti i suoi adulteri e avessi dato la sua lettera di divorzio ho visto che la sua sorella la perfida giuda non ha avuto alcun timore e si è andata a prostituirsi anch'essa col rumore delle sue prostituzioni israele ha contaminato il paese e ha commesso adulterio con la pietra e con il legno e nonostante tutto questo la sua perfida sorella non è tornata a me con tutto il suo cuore ma con finzione dice l'eterno e l'eterno mi disse l'infedele israele si è mostrata più giusta della perfide giuda va proclama queste parole verso il settentrione di torna o infedele israele dice l'eterno io non vi mostrerò un viso accigliato giacché io son misericordioso dice l'eterno e non serbo l'ira in perpetuo soltanto riconosci la tua iniquità tu sei stata infedele all'eterno al tuo dio hai voltato qua e là i tuoi passi verso gli stranieri sotto ogni albero verdeggiante e non e non hai dato ascolto alla mia voce dice l'eterno tornate o figliuoli traviati dice l'eterno poiché io sono il vostro signore vi perdonerò uno da una città due da una famiglia e vi ricondurrò a Sion e vi darò dei pastori secondo il mio cuore che vi passeranno con conoscenza e con intelligenza e quando sarete moltiplicati avete fruttato nel paese allora dice l'eterno non si darà più l'arca del patto dell'eterno non vi si penserà più non la si menzionerà più non la si rimpiangerà più non se ne farà un'altra allora a Gerusalemme sarà chiamata il trono dell'eterno tutte le nazioni si raduneranno a Gerusalemme nel nome dell'eterno e non cammineranno più secondo la caparbietà del loro cuore malvagio in quei giorni la casa di Giuda camminerà con la casa di Israele e verranno assieme nel paese del Tretentrione al paese che io detti in eredità ai vostri padri io avevo detto oh qual posto ti darò tra i miei figliuoli che paese delizioso ti darò la più bella eredità delle nazioni avevo detto tu mi chiamerai padre mio e non cesserai di seguirmi ma proprio come una donna infedele al suo amante così voi mi siete stati infedeli o casa di Israele dice l'eterno una voce si è fatta udire sulle alture sono i pianti le supplicazioni dei figliuoli di Israele perché hanno pervertito la loro via hanno dimenticato l'eterno il loro Dio tornate o figliuoli traviati ed io vi guarirò dai vostri traviamenti eccoci noi veniamo a te perché tu sei l'eterno il nostro Dio sì certo vano è il soccorso che si aspetta dalle alture dalle feste strepitose sui monti sì nell'eterno nel nostro Dio sta la salvezza di Israele quella vergogna che sono gli idoli ha divorato il prodotto della fatica dei vostri padri fin dalla nostra giovinezza e le loro pecore e i loro buoi e i loro figliuoli e le loro figliuole giasciamoci nella nostra vergogna e ci copro la nostra ignominia poiché abbiamo peccato contro l'eterno il nostro Dio noi i nostri padri nella nostra fanciullezza fino a questo giorno e non abbiamo mandato ascolto alla voce dell'eterno che il nostro Dio Geremia capitolo quarto o Israele se tu torni dice l'eterno se tu torni a me e se togli dal mio cospetto le tue abominazioni se non vai più vagando qua e là e giuri per l'eterno che vive con verità con rettitudine e con giustizia allora le nazioni saranno benedette in te e in te si glorieranno poiché così parla l'eterno a que di Giuda e di Gerusalemme dissodatevi un campo nuovo e non seminate fra le spine circoncidetevi per l'eterno circoncidete i vostri cuori o uomini di Giuda e abitanti di Gerusalemme affinché il mio furore non scoppi come un fuoco e non si infiammi sì che nessuno possa spegnerlo a motivo della malvagità delle vostre azioni annunziate in Giuda bandite questo in Gerusalemme e dite suonate le trombe nel paese gridate forte e dite adunatevi ed entriamo nelle città forti alzate la bandiera verso Sion cercate un rifugio non vi fermate perché io faccio venire dal settenzione una calamità e una grande rovina un leone balza fuori al folto del bosco un distruggitore di nazioni se messo in via ha lasciato il suo luogo per ridurre il tuo paese in una desolazione sì che le tue città saranno rovinate prive d'abitanti perciò cingetevi di sacchi fate cordoglio mandate lamenti poiché l'ardente ira dell'eterno non si è stornata da noi e in quel giorno avverrà dice l'eterno che il cuore del re e il cuore dei capi verranno meno i sacerdoti saranno attoniti e i profeti stupefatti allora io dissi hai signore eterno tu hai dunque ingannato questo popolo a gerusalemme dicendo voi avrete pace mentre la spada penetra fino all'anima in quel tempo si dirà a questo popolo e a gerusalemme un vento ardente viene dalle alture del deserto verso la figliuola del mio popolo non per vagliare non per nettare il grano un vento anche più impetuoso di quello verrà da parte mia ora anch'io pronunzierò la sentenza contro di loro ecco l'invasore sale come fan le nuvole e i suoi carri sono come un turbine i suoi cavalli sono più rapidi delle aquile guai a noi poiché siam devastati o Gerusalemme netta il tuo cuore dalla malvagità affinché tu sia salvata fino a quando albergeranno in te i tuoi pensieri iniqui poiché una voce che viene da Dan annuncia la calamità e la bandisce dai colli di Efraim avvertitene le nazioni fatelo sapere a Gerusalemme degli assedianti vengono da un paese lontano e mandano le loro grida contro la città di Giuda si son posti contro Gerusalemme da ogni lato a guisa di guardie ed un campo perché ella si è ribellata contro di me dice l'Eterno il tuo procedere le tue azioni t'hanno attirato queste cose questo è il frutto della tua malvagità sì è amaro sì è cosa che t'arriva al cuore le mie viscere le mie viscere io sento un gran dolore ho le pareti del mio cuore il mio cuore mi batte in petto io non posso tacermi poiché l'anima mia tu odi il suon della tromba e il grido di guerra s'annuncia rovina sopra rovina poiché tutto il paese è devastato le mie tende sono distrutte d'un tratto i miei padiglioni in un attimo fino a quando vedrò la bandiera e odrò il suono della tromba veramente il mio popolo è stolto non mi conosce sono dei figliuoli insensati e non hanno intelligenza sono sapienti per fare il male ma il bene non si lo sanno fare io guardo la terra ed ecco è desolata e deserta i cieli e son senza luce guardo i monti ed ecco tremano e tutti i colli son agitati guardo ed ecco non c'è uomo e tutti gli uccelli del cielo son volati via guardo ed ecco il Carmelo e un deserto e tutte le sue città sono abbattute dinanzi all'eterno dinanzi all'ardente sua ira poiché così parla l'eterno tutto il paese sarà desolato ma io non ho finirò del tutto a motivo di questo la terra fa cordoglio e i cieli di sopra s'oscurino perché io l'ho detto l'ho stabilito e non me ne pento e non mi ritrarrò al rumore dei cavalieri e degli arcieri tutte le città sono in fuga tutti entrano nel folto dei boschi montano sulle rocce tutte le città sono abbandonate e non v'è più alcun abitante e tu che stai per essere devastata che fai? hai un un bel vestirti di scarlatto un bel metterti i tuoi ornamenti d'oro un bel ingrandirti gli occhi col belletto in vano ti abbellisci i tuoi amanti ti sprezzano vogliono la tua vita poiché io odo dei gridi come di donna che ne dolori un'angoscia come quella di una donna nel suo primo parto è la voce della figliola di Sio che sospira ansimando e stende le mani ahimè l'assa che l'anima mia vi è meno dinnanzi agli uccisori Geremia capitolo quinto andate intorno per le vie di Gerusalemme e guardate e informatevi e cercate per le sue piazze se vi trovate un uomo se v'è uno solo che operi giustamente che cerchi la fedeltà e io perdonerò Gerusalemme anche quando dicono com'è vero che l'Eterno vive e certo che giurano il falso O Eterno gli occhi tuoi non cercano essi la fedeltà tu li colpisci e quelli non sentono nulla tu li consumi e quelli rifiutano di ricevere la correzione essi han reso il loro volto più duro della roccia rifiutano di convertirsi io dicevo questi non sono che i miseri sono insensati perché non conoscono la via dell'Eterno la legge del loro Dio io andrò dai grandi e parlerò loro perché essi conoscono la via dell'Eterno la legge del loro Dio ma anch'essi tutti quanti hanno sprezzato il gioco hanno rotto i legami perciò il leone della foresta li uccide il lupo del deserto li distrugge il leopardo è stenaguato presso le loro città chiunque ne uscirà sarà sbramato perché la loro trasgressione è numerosa le loro infedeltà sono aumentate perché ti perdonerei io i tuoi figlioli mi hanno abbandonato e giurano per gli dèi che non esistono io li ho sattollati ed essi si danno all'adulterio e s'affollano nelle case di prostituzione sono come tanti stalloni ben pasciuti e ardenti ognun d'essi nitrisce dietro la moglie del prossimo non li punerei io per queste cose dice l'Eterno e l'anima mia non si vendicherebbe d'una simile azione salite sulle sue mura e distruggete ma non la finite del tutto portate via i suoi tralci perché non sono dell'Eterno poiché la casa di Israele e la casa di Giuda mi hanno tradito dice l'Eterno rinnegano l'Eterno e dicono non esiste nessun male ci verrà addosso noi non vedremo né spada né fame i profeti non son che vento e nessuno parla in essi quel che minacciano sia fatto a loro perciò così parla l'Eterno l'Idio degli eserciti perché avete detto quelle parole ecco io farò della parola mia sia come fuoco nella tua bocca che questo popolo sia come legno e che quel fuoco lo divori ecco io faccio venire da lungi una nazione contro di voi o casa di Israele dice l'Eterno una nazione valorosa una nazione antica una nazione della quale tu non conosci la lingua e non intendi le parole il suo turcasso è un sepolcro aperto tutti quanti sono dei prodi essa divorerà le tue messi e il tuo pane divorerà i tuoi figliuoli e le tue figliuole divorerà le tue pecole e i tuoi buoi divorerà le tue vigne e i tuoi fichi abbatterà con la spada le tue città forti nelle quali confidi ma anche in quei giorni dice l'Eterno io non ti finirò del tutto e quando direte perché l'Eterno è il nostro Dio c'ha egli fatto questo tu risponderai loro come voi mi avete abbandonato e avete servito agli dei stranieri nel vostro paese così servirete gli stranieri in un paese che non è vostro annunziate questo alla casa di Giacobbe banditolo in Giuda e dite ascoltate ora questo o popolo stolto e senza cuore chi ha occhi e non vede chi ha orecchie e non ode e non mi temereste voi dice l'Eterno non temerete voi dinanzi a me che ho posto l'arena per limiti al mare barriera eterna che esso non oltrepassa mai i suoi flutti s'agitano ma sono impotenti muggono ma non la sormontano ma questo popolo che ha un cuore indocile e ribelle si voltano indietro e se ne vanno non dicono in cuor loro temiamo l'Eterno il nostro Dio che dà la pioggia a suo tempo la pioggia della prima e dell'ultima stagione che ci mantiene le settimane fissate per la mietitura le vostre iniquità hanno sconvolto queste cose e i vostri peccati van privato del benessere poiché fra il mio popolo si trovano degli empi che spiano come uccellatori in agguato essi tendano tra anelli acchiappano uomini come una gabbia è piena di uccelli così le loro case sono piene di frode perciò diventano grandi e si arricchiscono ingrassano hanno un volto lucente oltrepassano ogni limite di male non difendono la causa la causa dell'orfano eppure prosperano e non fanno giustizia nei processi dei poveri e non punirei io queste cose dice l'Eterno e l'anima mia non si vendicherebbe di una simile nazione così spaventevoli e orride si fanno nel paese i profeti profetano bugiardamente i sacerdoti governano agli ordini dei profeti e il mio popolo a piacere che sia così e che farete voi quando verrà la fine Geremia capitolo sesto o figliuoli di Beniamino cercate un rifugio lungi dal mezzo di Gerusalemme e suonate la tromba in tecoa e innalzate un segnale su Bet Karem perché dal settentrione s'avanza una calamità una grande rovina la bella la voluttosa figliuola di Sion io la distruggo verso di lei vengono dei pastori con i loro greggi essi piantano le loro tende intorno a lei ognuno d'essi bruca dal suo lato preparate l'attacco contro di lei levatevi saliamo in pien mezzo di guai a noi che il giorno declina e le ombre della sera s'allungano levatevi saliamo di notte e distruggiamo i suoi palazzi poiché così parla l'eterno degli eserciti abbattete i suoi alberi ed elevate un bastione contro Gerusalemme quella è la città che deve essere punita dovunque in mezzo a lei non vè che oppressione come un pozzo fa scaturire le sue acque così ella fa scaturire la sua malvagità in lei non si sente parlare che di violenza e di rovina dinanzi a me stanno continuamente sofferenze e piaghe correggiti io Gerusalemme affinché l'anima mia non si alieni da te e io non faccia di te un deserto una terra disabitata così parla l'eterno degli eserciti il resto di Israele sarà interamente rascimolato come una vigna mettevi e rimettevi la mano come fa il vendemmiatore sui tralci a chi parlerò io chi prenderò a testimonio perché mi ascolti ecco l'orecchio loro è incirconciso ed essi sono incapaci di prestare attenzione ecco la parola dell'eterno è diventata per loro un opprobrio e non vi trovano più alcun piacere ma io sono pieno del furore dell'eterno sono stanco di contenermi riversolo ad un tempo sui bambini per la strada e sulle adunate dei giovani poiché il marito e la moglie il vecchio e l'uomo carico d'anni saranno tutti presi le loro case saranno passate ad altri e così pure i loro campi e le loro mogli poiché io stenderò la mia mano sugli abitanti del paese dice l'eterno perché dal più piccolo al più grande sono tutti avidi di guadagno dal profeta al sacerdote tutti praticano la menzogna essi curano alla leggera la piaga del mio popolo dicano pace pace mentre pace non vè saranno confusi perché commettono delle abominazioni non si vergognano affatto non sanno che cosa sia arrossire perciò cadranno fra quelli che cadono quando io li visiterò saranno rovesciati dice l'eterno così dice l'eterno fermatevi sulle vie e guardate e domandate quali sono i sentieri antichi e dove sia la buona strada e incamminatevi per essa e voi troverete riposo alle anime vostre ma quelli rispondono non ci incammineremo per essa io ho posto presso a voi delle sentinelle state attenti al suono della tromba ma quelli rispondono non staremo attenti perciò ascoltate o nazioni sappiate o assemblea dei popoli quello che avverrà loro ascolta o terra ecco io fo venire su questo popolo una calamità frutto dei loro pensieri perché non hanno prestato attenzione alle mie parole e quanto alla mia legge l'hanno rigettata che mi importa dell'incenso che viene da seba della canna odorosa che viene dal paese lontano i vostri olocausti non mi sono graditi e i vostri sacrifici non mi piacciono perciò così parla l'eterno ecco io porrò dinnanzi a questo popolo delle pietre di intoppo nelle quali inciamperanno e assieme padri e figlioli vicini ed amici e periranno così parla l'eterno ecco un popolo viene dal paese di settentrione e una grande nazione si muove dall'estremità della terra essi impugnano l'arco e il dardo sono crudeli non hanno pietà la loro voce è come il muggito del mare montan cavalli sono pronti a combattere come un solo guerriero contro di te o figliola di sio noi ne abbiamo udito la fama e le nostre mani si sono infiacchite l'angoscia ci coglie un dolore come di donna che partorisce non uscite nei campi non camminate per le vie perché la spada del nemico è là e il terrore d'ogni intorno oh figliola del mio popolo cingiti d'un sacco avvoltolati nella cenere prendi il lutto come per un figliolo unico fa udire un amaro lamento perché il devastatore ci piomba addosso d'improvviso io t'avevo messo fra il mio popolo come un saggiatore di metalli perché tu conoscessi e saggiassi la loro via essi sono tutti dei ribelli fra i ribelli vanno attorno seminando calugne son rame e ferro son tutti dei corrotti il mantice soffia con forza il piombo è consumato dal fuoco invano si cerca di raffinare che le scorie non si staccano saranno chiamati argento di rifiuto perché l'eterno li ha rigettati Geremia capitolo settimo la parola che fu rivolta a Geremia da parte dell'eterno dicendo fermati alla porta della casa dell'eterno e qui vi proclama questa parola ascoltate la parola dell'eterno o voi tutti uomini di Giuda che entrate per queste porte per mostrarvi dinnanzi all'eterno così parla l'eterno degli eserciti lì Dio di Israele emendate le vostre vie e le vostre opere e io vi farò dimorare in questo luogo non ponete la vostra fiducia in parole fallaci dicendo questo è il tempio dell'eterno il tempio dell'eterno il tempio dell'eterno ma se emendate veramente le vostre vie e le vostre opere se praticate sul serio la giustizia gli uni verso gli altri se non opprimete lo straniero l'orfano e la vedova se non spargete sangue innocente in questo luogo e non andate per vostra sciagura dietro ad altri dei io altresì vi farò abitare in questo luogo nel paese che ho dato ai vostri padri in sempre eterno ecco voi metterete la vostra fiducia in parole fallaci che non giovano a nulla come voi rubate e uccidete commettete adulteri giurate il falso offrite profumi a Baal andate dietro ad altri dei che prima non conoscevate e poi venite a presentarvi davanti a me in questa casa sulla quale è invocato il mio nome e dite siamo salvi e ciò per compiere tutte queste abominazioni è ella forse agli occhi vostri una spelonca di ladri questa casa nella quale è invocato il mio nome ecco è tutto questo che io vi dico questo che io ho veduto dice l'eterno andate dunque al mio luogo che era in silo dove avevo da prima stanziato il mio nome e guardate come l'ho trattato a motivo della malvagità del mio popolo d'israele ed ora poiché avete commesso tutte queste cose dice l'eterno poiché v'ho parlato parlato fin dal mattino e voi non avete dato ascolto poiché v'ho chiamati e voi non avete risposto io tratterrò questa casa sulla quale è invocato il mio nome nella quale riponete la vostra fiducia e il luogo che ho dato a voi e ai vostri padri come ho trattato silo e vi caccerò dal mio cospetto come ho cacciato tutti i vostri fratelli tutta la progenie di Efraim e tu non ti intercedere per questo popolo non innalzare per essi supplicazioni o preghiere e non insistere presso di me perché non ti esaudirò non vedi tu quello che fanno nella città di Giuda e nelle vie di Gerusalemme i figlioli raccolgono le legna e i padri accendano il fuoco e le donne intridono la pasta per far delle focacce alla regina del cielo e per far delle libazioni negli altri dei per offendermi è proprio me che offendono dice l'Eterno non offendono essi loro stessi e la loro propria confusione perciò così parla il Signore l'Eterno ecco la mia ira il mio furore si riversa su questo luogo sugli uomini sulle bestie sugli alberi della campagna e sui frutti della terra essa consumerà ogni cosa e non si estinguerà così parla l'Eterno degli eserciti lì Dio di Israele aggiungete i vostri olocausti ai vostri sacrifici e mangiate nella carne poiché io non parlai a vostri padri e non dia di loro alcun comandamento quando li trassi fuori dal paese di Egitto intorno ad olocausti e da sacrifici ma questo comandai loro ascoltate la mia voce e sarò il vostro Dio e voi sarete il mio popolo camminate in tutte le mie vie che io vi prescrivo affinché siate felici ma essi non ascoltarono non prestarono orecchio ma camminarono seguendo i consigli e la caparbietà del loro cuore malvagio e invece di andare avanti si sono volti indietro dal giorno che i vostri padri uscirono dal paese di Egitto fino al dì d'oggi io ve ho mandato tutti i miei servi i profeti e ve lo mandate ogni giorno fin dal mattino ma essi non m'hanno ascoltato non hanno prestato orecchio hanno fatto il collo duro si sono condotti peggio dei loro padri di loro tutte queste cose ma essi non ti ascolteranno chiamali ma essi non ti risponderanno perciò dirai loro questa è la nazione che non ascolta la voce dell'Eterno del suo Dio e che non vuole accettare correzione la fedeltà e perita è venuta a meno nella loro bocca raditi la chioma e buttala via e leva sulle alture un lamento poiché l'Eterno rigette e abbandona la generazione che è divenuta l'oggetto della sua ira i figliuoli di Giuda hanno fatto ciò che è male agli occhi miei dice l'Eterno hanno collocato le loro abominazioni nella casa sulla quale ho invocato il mio nome per contaminarla hanno edificato gli altri luoghi di Tofet nella valle del figliuolo di Himom per bruciarvi nel fuoco i loro figliuoli e le loro figliuole cosa che io non avevo comandata e che non era mai venuta neppure in mente perciò ecco i giorni vengono dice l'Eterno che non si darà più Tofet nella valle del figliuolo di Himom ma la valle del massacro e per mancanza di spazio si seppelliranno i morti a Tofet e i cadavere di questo popolo serviranno di pasto agli uccelli del cielo e alle bestie della terra e non vi sarà alcuno che li scacci e farò cessare nelle città di Giuda e per le strade di Gerusalemme i gridi di gioia e i gridi di esultanza il canto dello sposo e il canto della sposa poiché il paese sarà una desolazione Geremia capitolo ottavo in quel tempo dice l'Eterno si trarranno dai loro sepolcri le ossa dei re di Giuda le ossa dei suoi principi le ossa dei sacerdoti le ossa dei profeti le ossa degli abitanti di Gerusalemme e le si esporranno dinanzi al sole dinanzi alla luna dinanzi a tutto l'esercito del cielo i quali essi hanno amato e hanno servito hanno seguito hanno consultato e dinanzi ai quali si sono prostrati non si raccoglieranno non si seppeliranno ma saranno come l'etame sulla faccia della terra e la morte sarà preferibile alla vita per tutto il residuo che rimarrà di questa razza malvagia in tutti i luoghi dove li avrò cacciati dice l'Eterno degli eserciti e tu di loro così parla l'Eterno se uno cade non si rialza forse se uno si svia non torna egli indietro perché dunque questo popolo di Gerusalemme si svia egli di uno sviamento perpetuo essi persistono nella malafede e rifiutano di convertirsi io sto attendendo e in ascolto essi non parlano come dovrebbero nessuno si pente dalla sua malvagità e dice che ho io fatto ognuno riprende la sua corsa come il cavallo che si slancia alla battaglia anche la cicugna conosce nel cielo le sue stagioni la tortora la rondine la gru osservano il tempo quando debban venire ma il mio popolo non conosce quel che l'Eterno ha ordinato come potete voi dire noi siamo savi e la legge dell'Eterno è con noi sì certo ma la pena bugiarda degli scrivini ha falsato il senso i savi saranno confusi saranno costernati saranno presi ecco hanno rigettato la parola dell'Eterno che sapienza possono essi avere perciò io darò le loro moglie ad altre e i loro campi a dei nuovi possessori poiché dal più piccolo al più grande sono tutti avidi di guadagno dal profeta al sacerdote tutti praticano la menzogna essi curano la leggera la piaga del mio popolo dicono pace pace mentre pace non vè essi saranno confusi perché commettono delle abominazioni non si vergognano affatto non sanno che cosa sia arrossire perciò cadranno fra quelli che cadono quando io li visiterò saranno rovesciati dice l'Eterno certo io li sterminerò dice l'Eterno non vè più uva sulla vite non più fichi sul fico e le foglie sono appassite io ho dato loro dei nemici che passeranno sui loro corpi perciò se ne stiamo qui seduti adunatevi ed entriamo nella città forti per qui vi perire poiché l'Eterno il nostro Dio ci condanna a perire ci fa bere delle acque avvelenate perché abbiamo peccato contro l'Eterno noi aspettavamo la pace ma nessun bene giunge aspettavamo un tempo di guarigione ed ecco il terrore sode da Danlu sbuffare dei suoi cavalli al rumore del nitrito dei suoi destrieri trema tutto il paese perché vengono divorano il paese e tutto ciò che contiene la città e i suoi evitanti poiché ecco io mando contro di voi dei serpenti degli aspidi contro i quali non vè incantagione che valga e vi morderanno dice l'Eterno ove trovar conforto nel mio dolore il cuore mi langua in seno ecco il grido d'angoscia della figliuola del mio popolo da terra lontana l'Eterno non è egli più in Sion il suo re non è egli più in mezzo a lei perché m'hanno provocato a dire con le loro immagini scolpite che son vanità straniere la messa è passata l'estate è finita e noi non siamo salvati per la piaga della figliuola del mio popolo io sono affranto sono in lutto sono in preda alla costernazione non vè egli balsamo in Galad non vè egli colà alcun medico perché dunque la piaga della figliuola del mio popolo non è stata medicata Geremia capitolo nono o fosse pur la mia testa mutata in acqua e fossero gli occhi miei una fonte di lacrime io piangerei giorno e notte gli uccisi della figliuola del mio popolo o se avessi nel deserto un rifugio da viandanti io abbandonerei il mio popolo e me ne andrei lungi da costoro perché sono tutti adulteri un'adunanza di traditori tendono la lingua che è il loro arco per scoccar menzogne sono diventati potenti nel paese ma non per agir con fedeltà perché procedono di malvagità in malvegità e non conoscano me dice l'Eterno si guardi ciascuno dal suo amico e nessuno si fidi del suo fratello poiché ogni fratello non fa che ingannare ed ogni amico va spargendo calunnie l'uno gabba l'altro e non dice la verità esercitano la loro lingua a mentire e si affannano a fare il male la tua dimora è la malafede ed è per la malafede che costoro rifiutano di conoscermi dice l'Eterno perciò così parla l'Eterno degli eserciti ecco io li fonderò nel loro grogiuolo per saggiarli poiché altro farei riguardo alla figliuola del mio popolo la loro lingua è un dardo micidiale essa non dice che menzogne con la bocca ognuno parla di pace al suo prossimo ma nel cuore gli tende insidie non li punirei io per queste cose dice l'Eterno e l'alma mia non si vendicherebbe di una simile nazione io voglio dare in pianto ed in gemito per i monti e voglio dare in lamento per i pascoli del deserto perché sonarsi tal che nino più vi passa e non vi si ode più voce di bestiame gli uccelli del cielo e le bestie sono fuggite sono scomparse io ridurrò Gerusalemme in un monte di ruine in un riscetto di sciacalli e farò della città di Giuda una deselazione senza abitanti chi è Savio che capisca queste cose chi è colui al quale la bocca dell'Eterno ha parlato perché ei ne dia l'annunzio poiché il paese è egli distrutto desolato come un deserto tal che nino vi passa l'Eterno risponde perché costoro hanno abbandonato la mia legge che io avevo a loro posta dinanzi e non hanno dato ascolto alla mia voce e non l'hanno seguita nella loro condotta ma han seguito la caparbietà del cuor loro e sono andati dietro ai Baali come i loro padri insegnarono loro perciò così parla l'Eterno degli eserciti lì Dio di Israele ecco io farò mangiare dell'assenza a questo popolo e gli farò bere dell'acqua avvelenata io li disperderò fra le nazioni che né loro né loro padri han conosciuto e manderò dietro a loro la spada finché io li abbia consumati così parla l'Eterno degli eserciti pensate a chiamare delle piagnone che esse vengano mandate a cercare le più avvedute che esse vengano e si affrettino a fare un lamento su noi sì che i nostri occhi si struggano in lacrime e l'acqua fluisca nelle nostre palpebre poiché una voce di lamento si fa udire da Sion come siamo devastati siamo coperti di confusione perché dobbiamo abbandonare il paese ora che hanno abbattuto le nostre dimore donne ascoltate la parola dell'Eterno e i vostri orecchi ricevino la parola della sua bocca insegnate alle vostre figliuole dei lamenti e ognuna insegna la sua compagna dei canti funebri poiché la morte è salita per le nostre finestre e entrate nei nostri palazzi per far sparire i bambini dalle strade e i giovani dalle piazze di così parla l'Eterno i cadavri degli uomini giaceranno come le tame sull'aperta campagna come una mannella che il mietitore si lascia dietro e che nessuno raccoglie così parla l'Eterno il savio non si glori della sua saviezia il forte non si glori della sua forza il ricco non si glori della sua ricchezza ma chi si gloria si glori di questo che ha intelligenza e conosce me che sono l'Eterno e che esercita la benignità il diritto e la giustizia sulla terra perché di queste cose mi compiaccio dice l'Eterno ecco i giorni vengano dice l'Eterno che punirò tutti i circoncisi che sono incirconcisi l'Egitto Giuda Edom i figliuoli di Ammon Moab e tutti quelli che si tagliano i canti della barba e abitano nel deserto poiché tutte le nazioni sono incirconcise e tutta la casa di Israele è incirconcisa di cuore Geremia capitolo decimo ascoltate la parola che l'Eterno vi rivolge o casa di Israele così parla l'Eterno non imparate a camminare nella via delle nazioni e non abbiate paura dei segni del cielo perché sono le nazioni quelle che ne hanno paura poiché costumi dei popoli sono vanità giacché si taglia un albero dalla foresta e le mani dell'operaio lo lavorano con l'ascia lo si adorna d'argento e d'oro lo si fissa con chiodi e con martelli perché non si muova cotesti dei sono come pali in un orto di cocomeri e non parlano bisogna portarli perché non possano camminare non li temete perché non possano fare alcun male e non è in loro potere di fare del bene non v'è alcuno che parli a te o eterno tu sei grande e grande in potenza il tuo nome chi non ti temerebbe o re delle nazioni poiché questo ti è dovuto già che fra tutti i savi delle nazioni e in tutti loro regni non v'è alcuno pari a te ma costoro tutti insieme sono stupidi e insensati non è che una dottrina di vanità non è altro che legno argento battuto in lastre e portato da tarsis oro venuto da ufas opera di scultore e di mandorefice sono vestiti di porpora e di scarlatto sono tutti lavoro di abili artefici ma l'eterno è il vero Dio egli è l'idio vivente e il re eterno per l'ira sua trema la terra e le nazioni non possano reggere dinnanzi al suo sdegno così direte loro gli dèi che non hanno fatto i cieli la terra scompariranno di sulla terra e di sotto il cielo egli con la sua potenza ha fatto la terra e con la sua sapienza stabilito fermamente il mondo con la sua intelligenza disteso i cieli quando fa udire la sua voce e ve un rumore d'acqua e dal cielo ci fa salire i vapori dall'estremità della terra fa guazzare i lampi per la pioggia e trae il vento dei suoi serbatoi ogni uomo allora diventa stupido privo di conoscenza ogni ora fu a vergogna delle sue immagini scolpite perché le sue immagini fuse sono una menzogna e non v'è soffio vitale in loro sono vanità lavoro d'inganno nel giorno del castigo per il anno a loro non somiglia colui che è la parte di Giacobbe perché egli è quel che ha formato tutte le cose e Israele è la tribù della sua eredità il suo nome è l'eterno degli eserciti raccogli da terra il tuo bagaglio o tu che sei cinta d'assedio poiché così parla l'eterno ecco questa volta io lancerò lontano gli abitanti del paese e li stringerò da presto affinché non gli sfuggano guai a me a motivo della mia ferita la mia piaga è dolorosa ma ho detto questo è il mio male e lo devo sopportare le mie tende sono guaste e tutto il mio cordame è rotto i miei figlioli sono andati lungi da me e non sono più non v'è più alcuno che stenda la mia tenda che drizzi i miei padiglioni perché i pastori sono stati stupidi e non hanno cercato l'eterno perciò non hanno prosperato e tutto il loro greggio è stato disperso ecco un rumore giunge un gran tumulto arriva dal paese del settentrione per ridurre le città di Giuda in desolazione in un ricetto di sciacalli oh eterno io so che la via dell'uomo non è in suo potere e che non è in potere dell'uomo che cammina di dirigere i suoi passi oh eterno correggimi ma con giusta misura non è la tua ira che tu non abbia ridurmi a poca cosa riversa la tua ira sulle nazioni che non ti conoscano e sui popoli che non invocano il tuo nome poiché hanno divorato Giacobbe sì lo hanno divorato l'han consumato han desolato la sua dimora Geremia capitolo undicesimo la parola fu rivolta a Geremia da parte dell'eterno in questi termini ascoltate le parole di questo patto e parlate agli uomini di Giuda e agli abitanti di Gerusalemme di loro così parla l'eterno l'iddio di Israele maledetto l'uomo che non ascolta le parole di questo patto che io comandai a vostri padri il giorno che li fece uscire dal paese d'Egitto dalla fornace di ferro dicendo ascoltate la mia voce e fate tutto quello che vi comanderò e voi sarete il mio popolo e io sarò vostro Dio affinché io possa mantenere il giuramento che fece ai vostri padri di dar loro un paese dove scorre il latte e il miele come oggi vedete che esso è allora io risposi Amen o Eterno l'Eterno mi disse proclama tutte queste parole nelle città di Giuda e per le strade di Gerusalemme dicendo ascoltate la parola di questo patto e mettetela ad effetto poiché io ho scongiurato i vostri padri dal giorno che li trassi fuori dal paese d'Egitto fino a questo giorno li ho scongiurati fin dal mattino dicendo ascoltate la mia voce ma essi non l'hanno ascoltata non hanno prestato orecchio e hanno camminato seguendo ciascuno la caparbietà del loro cuore malvagio perciò io ho fatto venire su loro tutto quello che avevo detto in quel patto che io avevo comandato loro ad osservare e che essi non hanno osservato poi l'Eterno mi disse esiste una congiura fra gli uomini di Giuda e fra gli abitanti di Gerusalemme sono tornati all'iniquità dei loro padri antichi i quali ricusarono di ascoltare le mie parole e sono andati anch'esso dietro ad altri dei per servirli la casa di Israele e la casa di Giuda hanno rotto il patto che io avevo fatto con i loro padri perciò così parla l'Eterno ecco io faccio venire su loro una calamità nella quale non potranno sfuggire essi grideranno a me ma io non li ascolterò allora le città di Giuda e gli abitanti di Gerusalemme andranno a gridare agli dei ai quali offrono profumi ma essi non li salveranno nel tempo della calamità poiché o Giuda tu hai tanti dei quante sono le città e quante sono le strade di Gerusalemme tanti altari avete retti all'infamia altari per offrir profumi a Baal tu non pregare per questo popolo non ti mettere a gridare né a far supplicazioni per loro perché io non li esaudirò quando grideranno a me a motivo della calamità che li avrà colpiti che ha da fare l'amato mio nella mia casa delle sceleratezze forse che i devoti e della carne consacrata allontaneranno da te la calamità perché tu possano allegrarti l'eterno t'aveva chiamato ulivo verdeggiante adorno di bei frutti al rumore di un gran tumulto egli v'aveva piccato il fuoco e i rami ne sono infranti l'eterno degli eserciti che t'aveva piantato pronunzia del male contro di te a motivo della malvagità commessa al loro danno dalla casa di Israele e dalla casa di Giuda allorché m'hanno provocato ad ira offrendo profumi a Baal l'eterno me l'ha fatto sapere ed io l'ho saputo allora tu m'hai mostrato le loro azioni io ero come un docil agnello che si mena al macello io non sapevo che ordissero macchinazioni contro di me dicendo distruggiamo l'albero col suo frutto e sterminiamolo dalla terra dei viventi affinché il suo nome non sia più ricordato ma o eterno degli eserciti giusto giudice che scruti le regnie del cuore io vedrò la tua vendetta su di loro poiché a te io rimetto la mia causa perciò così parla l'eterno riguardo a quei di Anatot che cercano la tua vita e dicono non profetare nel nome dell'eterno se non vuoi morire per le nostre mani perciò così parla l'eterno degli eserciti ecco io sto per punirli i giovani morranno per la spada i loro figlioli le loro figliuole moriranno di fame e non resterà di loro alcun residuo poiché io farò venire la calamità su quei di Anatot l'anno in cui li visiterò Geremia capitolo dodicesimo tu sei giusto eterno quando io contendo teco non di meno io porrò le mie ragioni perché prospera la vita degli empi perché sono tutti a loro agio quelli che procedono perfidamente tu li hai piantati essi hanno preso radice crescono ed anche portano frutto tu sei vicino alla loro bocca ma lontano dal loro interiore e tu eterno tu mi conosci tu mi vedi tu provi qualsia il mio cuore verso di te trascinali al macello come pecore e preparali per il giorno del massacro fino a quando farà cordoglio il paese e si seccherà l'erba di tutta la campagna per la malvagità degli abitanti le bestie e gli uccelli sono sterminati poiché quelli dicono egli non vedrà la nostra fine se correndo con dei predoni questi ti stancano come potrai lottare coi cavalli e se non ti senti al sicuro che in terra di pace come farai quando il giordano sarà gonfio perché perfino i tuoi fratelli e la casa di tuo padre ti tradiscono anch'essi ti gridano dietro a piena voce non li credere quando ti diranno delle buone parole io ho lasciato la mia casa ho abbandonato la mia eredità ho dato quello che l'anima mia ha di più caro nelle mani dei tuoi nemici la mia eredità è divenuta per me come un leone nella foresta ha mandato contro di me il suo rugito perciò io l'ho odiata la mia eredità è stata per me come l'uccello rapace screazzato gli uccelli rapaci si gettano contro di lei da ogni parte andate radunate tutte le bestie della campagna fatele venire a divorare molti pastori guastano la mia vigna calpestano la porzione che mi è toccata riducano la mia deliziosa porzione in un deserto desolato la riducono in una deselazione è tutta desolata fa cordoglio dinanzi a me tutto il paese è desolato perché nessuno lo prende a cuore su tutte le alture del deserto giungano devastatori perché la spada dell'eterno devora il paese da un'estremità all'altra nessuna carne ha pace han seminato grano e raccolgono spine si sono affannati senza alcun profitto vergognati di ciò che raccogliete a motivo dell'ardente ira dell'eterno così parla l'eterno contro tutti i miei malvagi vicini che toccano l'eredità che io ho data a possedere al mio popolo di israele ecco io li svellerò dal loro paese svellerò la casa di giuda di fra loro ma dopo che li avrò sdiverti avrò di nuovo compassione di loro e le ricondurrò ciascuno nella sua eredità ciascuno nel suo paese e seppure imparano le vie del mio popolo e a giurare per il mio nome dicendo l'eterno vive come hanno insegnato al mio popolo a giurare per Ba saranno saldamente stabilite in mezzo al mio popolo ma se non danno ascolto io svellerò quella nazione la svellerò e la distruggerò dice l'eterno Geremia capitolo tredicesimo così mi ha detto l'eterno va comprati una cintura di lino mettitela sui fianchi ma non la porre nell'acqua così io comprai la cintura secondo la parola dell'eterno e me la misi sui fianchi e la parola dell'eterno mi fu indirizzata per la seconda volta in questi termini prendi la cintura che hai comprata e che hai i suoi fianchi va verso l'eufrate e qui mi nascondila nella fessura di una roccia ed io andai e la nascosi presso l'eufrate come l'eterno mi aveva comandato e dopo molti giorni l'eterno mi disse levati va verso l'eufrate e togli di là la cintura che io t'avevo comandato di nascondervi ed io andai verso l'eufrate e scavai e tolsi la cintura dal luogo dove l'avevo nascosta ed ecco la cintura era guasta e non era più buona a nulla allora la parola dell'eterno mi fu rivolta in questi termini così parla l'eterno in questo modo io distruggerò l'orgoglio di gerusalemme e distruggerò l'orgoglio di giuda di questo popolo malvagio che ricusa ad ascoltare le mie parole che cammina seguendo la parbietà del suo cuore e va dietro ad altri dei per servirli e per prostrarsi dinanzi a loro esso diventerà come questa cintura che non è più buona a nulla poiché come la cintura aderisce ai fianchi dell'uomo così io avevo strettamente unita a me tutta la casa di israele e tutta la casa di giuda dice l'eterno perché fossero il mio popolo mia fama mia lode mia gloria ma essi non han voluto dare ascolto tu dirai dunque loro questa parola così parla l'eterno l'iddio di israele ogni vaso sarà riempito di vino e quando essi ti diranno non lo sappiamo noi che ogni vaso si riempie di vino allora tu di loro così parla l'eterno ecco io empirò d'ebrezza tutti gli abitanti di questo paese i re che seggano sul trono di davide i sacerdoti i profeti e tutti gli abitanti di gerusalemme li sbatterò l'uno contro l'altro padri e figli assieme dice l'eterno io non risparmierò alcuno nessuna pietà nessuna compassione mi impedirà di distruggerli ascoltate porgete orecchio non insuperbite perché l'eterno parla date gloria all'eterno al vostro dio prima che i faccia venire le tenebre e prima che i vostri piedi inciampino sui monti avvolti nel crepuscolo e voi aspettate la luce ed egli non faccia che un'ombra di morte e la muti in oscurità profonda ma se voi non date ascolto l'anima mia piangerà in segreto a motivo del vostro orgoglio gli occhi miei pangeranno dirottamente si scioglieranno in lacrime perché il greggio dell'eterno sarà menato in cattività Dì al re e alla regina sedetevi in terra perché la vostra gloriosa corona vi cada di testa le città del mezzogiorno sono chiuse e non v'è più chi le apra tutto Giuda è menato in cattività è menato in esilio tutto quanto alzate gli occhi e guardate quelli che vengono dal settentrione dov'è il greggio il magnifico greggio che t'era stato dato che dirai tu quando egli ti punirà ma tu stessa hai insegnato ai tuoi amici a dominar su te non ti piglieranno i dolori come piglia la donna che sta per partorire e se tu dici in cuor tuo perché mi avvengono queste cose per la grandezza della tua iniquità i lembi della tua veste ti sono rimboccati e i tuoi calcani sono violentemente scoperti un moro può egli mutare la sua pelle o un leopardo le sue macchie allora anche voi abituati come siete a fare il male potrete fare il bene e io li disperderò come stoppia portata via dal vento del deserto è questa la tua sorte la parte che io ti misuro dice l'Eterno perché tu mai dimenticato e hai riposto la tua fiducia nella menzogna e io pure ti rovescerò i lembi della veste sul viso sì che si vegga la tua vergogna io ho visto le tue abominazioni i tuoi adulteri i tuoi nitriti l'infamia della tua prostituzione sulle colline e per i campi guai a te o Gerusalemme quando avverrà mai che tu ti purifichi Geremia capitolo quattordicesimo la parola dell'Eterno che fu rivolta a Geremia in occasione della siccità Giuda è in lutto e le assemblee delle sue porte languiscono o giacciono per terra in abito lugubre il grido di Gerusalemme sale al cielo i nobili fra loro mandano i piccoli a cercare dell'acqua e questi vanno alle cisterne e non trovano acqua e tornano coi loro vasi vuoti sono piedi di vergogna di confusione si coprono il capo il suolo è costernato perché non v'è stata pioggia nel paese i lavoratori sono pieni di confusione si coprono il capo perfino la cerva della campagna figlia è abbandonata e al suo parto perché non v'è erba e gli onagri si fermano sulle alture aspirano l'aria come gli sciacalli i loro occhi sono spenti perché non c'è verdura o eterno se le nostre iniquità testimoniano contro di noi opera per amor del tuo nome poiché le nostre infedeltà sono molte noi abbiamo pettite o speranza di Israele tuo servatore in tempo di distretta perché saresti nel paese come un forestiero come un viandante che vi si ferma per passarvi la notte perché saresti come un uomo sopraffatto come un prode che non può salvare eppure o eterno tu sei in mezzo a noi e il tuo nome è invocato su noi non ci abbandonare così parla l'eterno a questo popolo essi amano andar vagando non trattengono i loro piedi perciò l'eterno non li gradisce si ricorda ora della loro iniquità e punisce i loro peccati e l'eterno mi disse non pregare per il bene di questo popolo se digiunano non ascolterò il loro grido se fanno degli olocausti e delle offerte non li gradirò anzi io sto per consumarli con la spada con la fame e con la peste allora io dissi ah signore eterno ecco i profeti dicono loro voi non vedrete la spada ne avrete mai la fame ma io vi darò una pace sicura in questo luogo e l'eterno mi disse quei profeti profetizzano menzogne nel mio nome io non li ho mandati non ho dato loro alcun ordine e non ho parlato loro le profezie che vi fanno sono visioni menzogniere divinazioni vanità imposture del loro proprio cuore perciò così parla l'eterno riguardo ai profeti che profetano nel mio nome benché io non li abbia mandati e dicono non vi sarà né spada né fame in questo paese quei profeti saranno consumati dalla spada e dalla fame e quelli ai quali essi profetizzano saranno gettati per le vie di Gerusalemme morti di fame e di spada essi le loro mogli i loro figlioli e le loro figliole né vi sarà chi dia loro sepoltura e riverserò su loro la loro malvagità di loro dunque questa parola struggansi gli occhi miei in lacrime giorno e notte senza posa poiché la vergine figliuola del mio popolo è stata fiaccata in modo straziante ha ricevuto un colpo tremendo se esco per i campi ecco degli uccisi per la spada se entro in città ecco i languenti per fame perfino il profeta perfino il sacerdote vanno a mendicare in un paese che non conoscono hai tu dunque reietto giuda all'anima tua preso in disgusto siom perché ci colpisci senza che ci sia guarigione per noi noi aspettavamo la pace ma nessun bene giunge aspettavamo un tempo di guarigione ed ecco il terrore o eterno noi conosciamo la nostra malvagità l'iniquità dei nostri padri poiché noi abbiamo peccato contro di te per amor del tuo nome non disdegnare non disonorare il trono della tua gloria ricordati del patto con noi non lo annullare fra gli idoli vani delle gente venà egli che possa far piovere o è forse il cielo che dà gli acquazzoni no sei tu o eterno tu lì dio nostro perciò noi speriamo in te poiché tu hai fatto tutte queste cose Geremia capitolo quindicesimo ma l'eterno mi disse quando anche Mosè e Samuele si presentassero davanti a me l'anima mia non si piegherebbe verso questo popolo caccialo via dalla mia presenza che egli se ne vada e seppur dicono dove ce ne andremo tu risponderai loro così dice l'eterno alla morte i destinati alla morte alla spada i destinati alla spada alla fame i destinati alla fame e alla cattività i destinati alla cattività io manderò contro di loro quattro specie di flagelli dice l'eterno la spada per ucciderli i cani per trascinarli gli uccelli del cielo e le bestie della terra per divorarli e per distruggerli e farò sì che saranno agitati per tutti i regni della terra a cagione di menasse il luolo di ezechia re di giuda e di tutto quello che egli ha fatto in gerusalemme poiché chi avrebbe pietà di te o gerusalemme chi ti compiangerebbe chi si incomoderebbe per domandarti come stai tu m'hai respinto dice l'eterno ti sei tirata indietro perciò io stendo la mano contro di te e ti distruggo sono stanco di pentirmi io ti ventolo col ventilabro alle porte del paese privo di figli e il mio popolo e lo faccio perire poiché non si converte nelle sue vie le sue vedove sono più numerose dell'arena del mare io faccio venire contro di loro contro la madre dei giovani un nemico che devasta in pie mezzo di faccio piombare su lei ad un tratto angoscia e terrore colei che aveva partorito sette figliuoli e languente esala lo spirito il suo sole tramonta mentre giorno ancora è coperta di vergogna di confusione e il rimanente di loro io lo do in balia alla spada dei loro nemici dice l'eterno me infelice oh madre mia poiché mi hai fatto nascere uomo di lite e di contesa per tutto il paese io non do né prendo in prestito e non di meno tutti mi maledicono l'eterno dice per certo io ti riservo un avvenire felice io farò che il nemico ti rivolga supplicazioni nel tempo dell'avversità nel tempo dell'angoscia il ferro potrà esso spezzare il ferro del settentrione ed il rame le tue facoltà e i tuoi tesori io li darò gratuitamente come preda a cagione di tutti i tuoi peccati e dentro tutti i tuoi confini e li farò passare coi tuoi nemici in un paese che non conosci perché un fuoco si è acceso nella mia ira che arderà contro di voi tu sai tutto eterno ricordati di me visitami e vendicami dei miei persecutori e nella tua longaminità non mi portar via riconosci che per amor tuo io porto l'obbrio tosto che ho trovato le tue parole io le ho divorate e le tue parole sono state la mia gioia l'allegrezza del mio cuore perché il tuo nome è invocato su me o eterno Dio degli eserciti io non mi son seduto nell'assemblea di quelli che ridono e non mi sono rallegrato ma per cagione della tua mano mi son seduto solitario perché tu mi rimproveri di indignazione e il mio dolore è desso perpetuo e la mia piaga incurabile ricusa di guarire vuoi e tu essere per me come una sorgente fallace come un'acqua che non dura perciò così parla l'eterno se tu torni a me io ti ricondurrò e tu ti terrai dinanzi a me e se tu separi ciò che è prezioso da ciò che è vile tu sarai come la mia bocca ritorneranno essi a te ma tu non ritornerai a loro io ti farò essere per questo popolo un forte muro di rame essi combatteranno contro di te ma non potranno vincerti perché io sarò teco per salvarti e per liberarti dice l'eterno e ti libererò dalla mano dei malvagi e ti redimerò dalla mano dei violenti Geremia capitolo sedicesimo la parola dell'eterno mi fu rivolta in questi termini non ti prender moglie e non aver figlioli né figliuole in questo luogo poiché così parla l'eterno riguardo ai figliuoli e alle figliuole che nascono in questo paese e alle madri che li partoriscano e ai padri che li generano in questo paese essi morranno consunti dalle malattie non saranno nimpianti e non avranno sepoltura serviranno di letame sulla faccia del suolo saranno consumati dalla spada e dalla fame e i loro cadaveri saranno pasto agli uccelli del cielo e alle bestie della terra poiché così parla l'eterno non entrare nella casa del lutto e non andare a far condoglio con loro né a compiangerli perché dice l'eterno io ho ritirato da questo popolo la mia pace la mia benignità la mia compassione grandi e piccoli morranno in questo paese non avranno sepoltura non si farà cordoglio per loro nessuno si farà incisioni addosso o si raderà per loro non si romperà per loro il pane del lutto per consolarli d'un morto e non si offrirà loro a bere la coppa della consolazione per un padre o per una madre parimenti non entrati in alcuna casa di convito per sederti con loro a mangiare o a bere poiché così parla l'eterno degli eserciti di Dio di Israele ecco io farò cessare in questo luogo davanti ai vostri occhi ai giorni vostri il grido di gioia e il grido di allegrezza la voce dello sposo e la voce della sposa e avverrà che quando tu annunzierai a questo popolo tutte queste cose essi ti diranno perché l'eterno ha egli pronunziata contro di noi tutta questa grande calamità qual è la nostra iniquità qual è il peccato che abbiamo commesso contro l'eterno il nostro Dio allora tu risponderai loro poiché i vostri padri mi hanno abbandonato dice l'eterno e sono andati dietro ad altri dei li hanno serviti e si sono prostrati dinanzi a loro hanno abbandonato me e non hanno osservato le mie legge e voi avete fatto anche peggio dei vostri padri perché ecco ciascun cammina secondo la caparbietà del suo cuore malvagio per non dare ascolto a me perciò io vi caccerò da questo paese in un paese che né voi né i vostri padri avete conosciuto e qui vi servirete giorno e notte ad altri dei perché io non vi farò grazia di sorta perciò ecco i giorni vengono dice l'eterno che non si dirà più l'eterno è vivente egli che trasse i figlioli di israele fuori dal paese d'egitto ma l'eterno è vivente egli che ha tratto i figlioli di israele fuori dal paese del settentrione e di tutti gli altri paesi nei quali egli li aveva cacciati io li ricondurrò nel loro paese che avevo dato ai loro padri ecco io mando un gran numero di pescatori a pescarli dice l'eterno e poi manderò gran numero di cacciatori a dar loro la caccia sopra ogni monte sopra ogni collina e nelle fessure delle rocce poiché i miei occhi sono su tutte le loro vie esse non sono nascoste dinnanzi alla mia faccia e la loro iniquità non rimane occulta agli occhi miei e prima darò loro al doppio la retribuzione delle loro iniquità del loro peccato perché hanno profanato il mio paese con quei cadaveri che sono i loro idoli esecrandi ed hanno impito la mia eredità delle loro abominazioni o eterno mia forza mia fortezza e mio rifugio nel giorno della distretta a te verranno le nazioni dall'estremità della terra e diranno i nostri padri non hanno ereditato che menzogne e vanità e cose che non giovano a nulla l'uomo si farebbe e gli altri dei ma già costè non sono dei perciò ecco io farò loro conoscere questa volta farò loro conoscere la mia mano e la mia potenza e sapranno che il mio nome è l'Eterno Geremia capitolo dicesettesimo il peccato di Giuda è scritto con uno stilo di ferro con una punta diamante è scolpito sulla tavola del loro cuore e sui corni dei vostri altari come si ricordano dei loro figlioli essi si ricordano dei loro altari e dei loro idoli d'astarte presso gli alberi verdeggianti sugli alticolli o mia montagna che domini la campagna io darò i tuoi beni e tutti i tuoi tesori e i tuoi alti luoghi come preda a cagione dei peccati che tu hai commessi entro tutti i tuoi confini e tu per tua colpa perderai l'eredità che io ti avevo data e ti farò servire ai tuoi nemici in un paese che non conosci perché avete acceso il fuoco della mia ira ed esso arde in perpetuo così parla l'eterno maledetto l'uomo che confida nell'uomo e fa della carne il suo braccio e il cui cuore si ritrae dall'eterno egli è come una temerisce nella pianura sterile e quando giunge il bene e non lo vede dimora in luoghi aridi nel deserto in terra salata senza abitanti benedetto l'uomo che confida nell'eterno e la cui fiducia è l'eterno egli è come un albero piantato presso all'acque che distende le sue radici lungo il fiume non si accorge quando viene la calzura e il suo fogliame riman verde nell'anno della siccità non è in affanno e non cessa di portare frutto il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa e insanabilmente maligno chi lo conoscerà io l'eterno che investigo il cuore e che metto alla prova le reni per attribuire ciascuno secondo le sue vie secondo il frutto delle sue azioni chi acquista ricchezze ma non con giustizia è come la pernice che cova uova che non ha fatte nel bel mezzo dei suoi giorni egli deve lasciarle e quando arriva la sua fine non è che uno stolto trono di gloria eccelso fin dal principio è il luogo del nostro santuario speranza di israele o eterno tutti quelli che t'abbandonano saranno confusi quelli che s'allontanano da te saranno iscritti sulla polvere perché hanno abbandonato l'eterno la sorgente delle acque vive guarisci mio eterno e sarò guarito salvami e sarò salvo poiché tu sei la mia lode ecco essi mi dicono dov'è la parola dell'eterno che essa si compia dunque quanto a me io non mi son rifiutato d'essere il loro pastore agli ordini tuoi ne ho desiderato il giorno funesto tu lo sai quello che è uscito dalla mia labbra è stato manifestato dinanzi a te non essere per me uno spavento tu sei il mio rifugio nel giorno della calamità siano confusi i miei persecutori non io sia confuso siano spaventati essi non io sia spaventato fa venire su loro il giorno della calamità e colpisci li di doppia retribuzione così mi ha detto l'eterno va e fermati alla porta dei figliuoli del popolo per la quale entrano ed escano i re di Giuda e a tutte le porte di Gerusalemme e di loro ascoltate la parola dell'eterno o re di Giuda e tutto Giuda e voi tutti gli abitanti di Gerusalemme che entrate per queste porte così parla l'eterno per amore delle anime vostre guardatevi dal portare alcun carico e dal farlo passare per le porte di Gerusalemme in giorno di sabato e non traete fuori dalle vostre case alcun carico e non fate lavoro alcuno in giorno di sabato ma santificate il giorno del sabato come io comandai ai vostri padri essi però non diedero ascolto non porsero orecchio ma indurarono la loro service per non ascoltare e per non ricevere istruzione e se voi mi date attentamente ascolto dice l'eterno se non fate entrare alcun carico per le porte di questa città in giorno di sabato ma santificate il giorno del sabato e non fate in esso alcun lavoro i re e i principi che seguono sul trono di davide entreranno per le porti di questa città montati su carri e su cavalli ventreranno essi e i loro principi gli uomini di giuda gli abitanti di gerusalemme e questa città sarà abitata in perpetuo e dalle città di giuda dai luoghi circonviscini di gerusalemme dal paese di beniamino dal piano dal monte e dal mezzodì si verrà a portare olocausti vittime oblazioni incenso e ad offrire sacrifici di azioni di grazie nella casa dell'eterno ma se non mi date ascolto e non santificate il giorno del sabato e non vastenete dal portare dei carichi e dall'introdurne per le porte di gerusalemme in giorno di sabato io accenderò un fuoco alle porte della città ed esso divorerà i palazzi di gerusalemme e non si estinguerà Geremia capitolo diciottesimo la parola che fu rivolta a Geremia da parte dell'eterno in questi termini levati scendi in casa del vasaio e qui vi ti farò dire le mie parole allora io scesi in casa del vasaio ed ecco egli stava lavorando alla ruota e il vaso che faceva si guastò come succede all'argilla in man del vasaio ed egli da capone fece un altro vaso come a lui parve bene di farlo e la parola dell'eterno mi fu rivolta in questi termini o casa di israele non posso io far di voi quello che fa questo vasaio dice l'eterno ecco quel che è l'argilla è in mano del vasaio voi lo siete in mano mia o casa di israele a un dato momento io parlo riguardo a una nazione riguardo a un regno di svellare di abbattere di distruggere ma se quella nazione contro la quale ho parlato si converte dalla sua malvagità io mi pento del male che avevo pensato di farle e ad un altro dato momento io parlo in riguardo a una nazione a un regno di edificare di piantare ma se quella nazione fa ciò che è male agli occhi miei senza dare ascolto alla mia voce io mi pento del bene di cui avevo parlato di colmarla or dunque parla agli uomini di Giude e agli abitanti di Gerusalemme e di così parla l'Eterno ecco io preparo contro di voi del male e formo contro di voi un disegno si converta ora ciascun di voi dalla sua via malvagia ed emendate le vostre vie e le vostre azioni ma costoro dicano è inutile noi vogliamo camminare seguendo i nostri propri pensieri e vogliamo agire ciascuno seguendo la caparghietà del nostro cuore malvagio perciò così parla l'Eterno chiedete dunque fra le nazioni chi ha udito cotali cose la vergine di Israele ha fatto una cosa orribile enorme la neve del Libano scompare essa mai dalle rocche che dominano la campagna o le acque che vengono di lontano fresche correnti si asciugano esse mai eppure il mio popolo ma dimenticato offre profumi agli idoli vani l'antratto a inciampare nelle sue vie che erano i sentieri antichi per seguire i sentieri laterali una via non appianata e per far così dal loro paese una desolazione un oggetto di perpetuo scherno tal che tutti quelli che vi passano rimangano stupiti e scuotano il capo io li disperderò dinnanzi al nemico come fa il vento orientale io volterò loro le spalle non la faccia nel giorno della loro calamità ed essi hanno detto venite ordiamo macchinazioni contro Geremia poiché l'insegnamento della legge non verrà meno per mancanza di sacerdoti né il consiglio per mancanza di savi né la parola per mancanza di profeti venite colpiamolo con la lingua e non diamo retta ad alcuna delle sue parole tu dunque o eterno volgi a me la tua attenzione e odi la voce di quelli che contendono meco il male sarà esso reso per il bene poiché essi hanno scavato una fossa per l'anima mia ricordati come io mi son presentato dinanzi a te per parlare in loro favore e per stornare da loro l'ira tua perciò abbandona i loro figliuoli e la fame dall'essi stessi in balia della spada le loro mogli siano orbate di figliuoli e rimangan vedove e i loro mariti siano feriti a morte e i loro giovani siano colpiti dalla spada in battaglia un grido so di uscire dalle loro case quando tu farai piombar su loro a un tratto le bande nemiche poiché hanno scavato una fossa per pigliarmi e han teso dei lacci ai miei piedi e tuo eterno conosci tutti i loro disegni contro di me per farmi morire non perdonare la loro iniquità non cancellare il loro peccato dinanzi ai tuoi occhi siano essi rovesciati davanti a te agisci contro di loro nel giorno della tua ira Geremia capitolo diciannovesimo così ha detto l'Eterno va compra una brocca di terra da un vasaio e prendi te qualcuni degli anziani del popolo e degli anziani dei sacerdoti recati nella valle dei figlioli di Inom che è all'ingresso della porta dei vasai e qui vi proclama la parola che io ti dirò dirai così ascoltate la parola dell'Eterno o re di Giuda e abitanti di Gerusalemme così parla l'Eterno degli eserciti l'iddio di Israele ecco io fo venire sopra questo luogo una calamità che farà intronare gli orecchi di chi ne odrà parlare poiché m'hanno abbandonato hanno profanato questo luogo e vi hanno offerto profumi e gli altri dei che né essi né loro padri né re di Giuda hanno conosciuti e hanno riempito questo luogo di sangue ed innocenti hanno edificato degli altri luoghi a Baal per bruciare nel fuoco i loro figlioli in olocausto a Baal cosa che io non avevo comandata dalla quale non avevo parlato mai e che non m'era mai venuta in cuore perciò ecco i giorni vengono dice l'Eterno che questo luogo non sarà più chiamato Tofet nella valle del figliolo di In-Nom ma la valle del massacro ed io frustrerò i disegni di Giuda e di Gerusalemme in questo luogo e farò sì che costoro cadano per la spada dinanzi ai loro nemici e per mano di coloro che cercano la loro vita e darò i loro cadaveri in pasto agli uccelli del cielo e alle bestie della terra e farò di questa città una desolazione un oggetto di scherno chiunque passerà presso di lei rimarrà stupito e si metterà a fischiare per tutte le sue piaghe e farò loro mangiare la carne dei loro figlioli e la carne delle loro figliuoli e mangeranno la carne gli uni degli altri durante l'assedio e la distretta in cui li stringeranno i loro nemici e quelli che cercano la loro vita poi tu spezzerai la brocca in presenza di quegli uomini che saranno andati teco e dirai loro così parla l'eterno degli eserciti così spezzerò questo popolo e questa città come si spezza un vaso di vasaio che non si può più accomodare e si seppelliranno i morti a Tofet per mancanza di luogo per seppellire così dice l'eterno farò a questo luogo e i suoi abitanti rendendo questa città simile a Tofet e le case di Gerusalemme e le case dei re di Giuda saranno come il luogo di Tofet immonde tutte le case cioè sopra i quitetti e si hanno offerto profumi a tutto l'esercito del cielo e han fatto libazione ad altri dei e Geremia tornò da Tofet dove l'eterno l'aveva mandato a profetare e si fermò nel cortile della casa dell'eterno e disse a tutto il popolo così parla l'eterno degli eserciti lì Dio di Israele ecco io fo venire sopra questa città e sopra tutte le città che da lei dipendono tutte le calamità che ho annunziate contro di lei perché hanno indurato la loro servisce per non dare ascolto alle mie parole Geremia capitolo ventesimo Orpashur figliolo di Immer sacerdote e capo superintendente della casa dell'eterno udì Geremia che profetizzava queste cose e Pashur percorse il profeta Geremia e lo mise nei ceppi nella prigione che era nella porta superiore di Beniamino nella casa dell'eterno e il giorno seguente Pashur fe uscire Geremia di carcere e Geremia gli disse l'eterno non ti chiama più Pashur ma Magor Missabib poiché così parla l'eterno io ti renderò un oggetto di terrore a te stesso e a tutti i tuoi amici essi cadranno per la spada dei loro nemici e i tuoi occhi lo vedranno e darò tutto Giuda in mano del re di Babilonia che li metterà in cattività in Babilonia e li colpirà con la spada e darò tutte le ricchezze di questa città e tutto il suo guadagno e tutte le sue cose preziose darò tutti i tesori dei re di Giuda in mano dei loro nemici che ne faranno loro preda li piglieranno e li porteranno via a Babilonia e tu Pashur e tutti quelli che abitano in casa tua andrete in cattività tu andrai a Babilonia e qui vi morrai e qui vi sarai sepolto tu con tutti i tuoi amici ai quali hai profetizzato menzogne tu mai persuaso o eterno e io mi son lasciato persuadere tu mai fatto forza e mai vinto e io son diventato ogni giorno un oggetto di scherno ognuno si fa beffe di me poiché ogni volta che io parlo grido e grido violenza e saccheggio sì la parola dell'eterno è per me un opprobrio uno scherno d'ogni giorno e se io dico io non lo mentoverò più non parlerò più nel suo nome venne il mio cuore come un fuoco ardente chiuso nelle mie ossa e mi sforzo di contenerlo ma non posso poiché odio le diffamazioni di molti lo spavento mi viene da ogni lato denunziatelo e noi lo denunzieremo tutti quelli coi quali vivemmo in pace spiano sio inciampo e dicono forse si lascerà sedurre e noi provarremo contro di lui e ci vendicheremo di lui ma l'eterno è meco come un potente eroe perciò i miei persecutori inciamperanno e non prevarranno saranno coperti di confusione perché non sono riusciti l'onta loro sarà eterna non sarà dimenticata ma o eterno degli eserciti che provi il giusto che vedi le reni e il cuore io vedrò sì la vendetta che prenderai di loro poiché a te io affido la mia causa cantate all'eterno lodate all'eterno poiché gli libera l'anima dell'infelice dalla mano dei malfatori maledetto maledetto sia il giorno che io nacqui il giorno che mia madre mi partorì non sia benedetto maledetto sia l'uomo che portò il mio padre la notizia tenato un maschio e lo colmò di gioia sia quell'uomo come le città che l'eterno ha distrutto senza pentirsene ho da egli delle grida al mattino e i clamori di guerra sul mezzodì poiché egli non m'ha fatto morire fin dal seno materno così mia madre sarebbe stata la mia tomba e la sua gravidanza senza fine poiché son io uscito dal seno materno per vedere tormento e dolore e per finire i miei giorni nella vergogna Geremia capitolo ventunesimo la parola fu rivolta a Geremia da parte dell'eterno quando il re Sedechia gli mandò Pasciur figliolo di Malchia e Sefonia figliolo di Maesia il sacerdote per dirgli De consulta per noi l'eterno perché Nebuchadnestar re di Babilonia ci fa guerra forse l'eterno farà pro nostro qualcuna delle sue meraviglie in guisa che quelli si ritragga da noi allora Geremia disse loro direte così a Sedechia così parla l'eterno l'idio di Israele ecco io sto per far rientrare nelle città le armi di guerra che sono nelle vostre mani e con le quali voi combattete fuori delle mura contro il re di Babilonia e contro i caldei che v'assediano e le raccoglierò in mezzo a questa città e io stesso combatterò contro di voi con mano distesa e con braccio potente con ira con furore con grande indignazione e colpirò gli abitanti di questa città uomini e bestie e morranno di un'orrenda peste poi dice l'eterno io darò Sedechia re di Giuda e i suoi servi e il popolo e coloro che in questa città saranno scampati dalla peste dalla spada e dalla fame in mano di Nabucodonestar re di Babilonia in mano dei loro nemici in mano di quelli che cercano la loro vita e Nabucodonestar li passerà fil di spada non risparmierà e non ne avrà né pietà né compassione e a questo popolo dirai così parla l'eterno ecco io pongo dinanzi a voi la via della vita e la via della morte colui che rimarrà in questa città morrà per la spada per la fame o per la peste ma chi ne uscirà per arrendersi ai caldei che vi assediano vivrà e avrà la vita per suo bottino poiché io volgo la mia faccia contro questa città per farle del male e non del bene dice l'eterno essa sarà data in mano del re di Babilonia ed egli la darà alle fiamme alla casa del re di Giuda di ascoltate la parola dell'eterno o casa di Davide così dice l'eterno amministrate la giustizia fin dal mattino e liberate dalla mano dell'oppressore colui a cui è tolto il suo affinché l'ira mia non si divampia guisa di fuoco e arda che nessuno la possa spengere per la malvagità delle vostre azioni eccomi contro te o abitatrice della valle roccia della pianura dice l'eterno voi che dite chi scenderà contro di noi chi entrerà nelle nostre dimore io vi punerò secondo il frutto delle vostre azioni dice l'eterno e appiccherò il fuoco a questa selva di gerusalemme ed esso divorrà tutto quello che la circonda geremia capitolo ventiduesimo così parla l'eterno scendi nella casa del re di giuda e pronunzi a cui vi questa parola e di ascolta la parola dell'eterno re di giuda che siedi sul trono di davide tu i tuoi servitori e il tuo popolo che entrate per queste porte così parla l'eterno fate ragione e giustizia liberate dalla mano dell'oppressore colui al quale è tolto il suo non fate torto né violenza allo straniero all'orfano e alla vedova e non spargete sangue innocente in questo luogo poiché se metterete realmente ad effetto questa parola dei re assisi sul trono di davide entreranno per le porte di questa casa montati su carri e su cavalli essi i loro servitori e il loro popolo ma se non date ascolto a queste parole io giuro per me stesso dice l'eterno che questa casa sarà ridotta a una rovina poiché così parla l'eterno riguardo alla casa del re di giuda tu eri per me come galahad come la vetta del libano ma certo io ti ridurrò simile a un deserto e delle città disabitate preparo contro di te dei devastatori armati ciascuno delle sue armi essi abbatteranno i cedri tuoi più belli le getteranno nel fuoco molte nazioni passeranno presso questa città e ognuno dirà all'altro perché l'eterno ha fatto egli così a questa grande città e si risponderà perché hanno abbandonato il patto dell'eterno del loro dio perché si sono prostrati davanti ad altri dei e li hanno serviti non piangete per il morto non vi affliggete per lui ma piangete piangete per colui che se ne va perché non tornerà più e non vedrà più il suo paese natio poiché così parla l'eterno riguardo a Scialo un figliuolo di Giosia re di Giuda che regnava in luogo di Giosia suo padre e che è uscito da questo luogo egli non vi ritornerà più ma morrà nel luogo dove l'ha nomenato in cattività e non vedrà più questo paese guai a colui che edifica la sua casa senza giustizia e le sue camere senza equità che fa lavorare il prossimo per nulla e non gli paga il suo salario e dice mi edificherò una casa grande e delle camere spaziose e vi fa eseguire delle finestre e le riveste di legno di cedro e la dipinge di rosso regni tu forse perché hai la passione del cedro tuo padre non mangiava egli e non beveva non faceva ciò che è retto e giusto e tutto gli andava bene egli giudicava la causa del povero e del bisognoso e tutto gli andava bene questo non è egli conoscermi dice l'eterno ma tu non hai occhi né cuore che per la tua cupidicia per spargere sangue innocente e per fare oppressione e violenza perciò così parla l'eterno riguardo gioia chim figliuolo di giosia re di giuda non se ne farà cordoglio dicendo ahimè fratel mio ahimè sorella non se ne farà cordoglio dicendo ahimè signore ahimè sua maestà sarà sepolto come si seppellisce un asino trascinato e gettato fuori delle porte di gerusalemme sali sul libano e grida alza la voce a basam e grida all'abarim perché tutti i tuoi amanti sono distrutti io t'ho parlato al tempo della tua prosperità ma tu dicevi io non ascolterò questo è stato il tuo modo di fare fin dalla tua fanciullezza tu non hai mai dato ascolto alla mia voce tutti i tuoi pastori saranno pastura al vento e i tuoi amanti andranno in cattività e allora sarai svergognata confusa per tutta la tua malvagità oh tu che dimori sul libano che tannidi fra i cedri come farai pietà quando ti coglieranno i dolori le doglie pari a quelle di una donna di parto come è vero che io vivo dice l'eterno quando anche conia figliolo di gioachim re di giuda fosse un sicillo nella mia destra io ti strapperei di lì io ti darò in mano di quello che cerca la tua vita in mano di quelli dei quali hai paura in mano di Nabucranestà e di Babilonia in mano dei caldei e caccero te e tua madre che t'ha partorito in un paese straniero dove non siete nati e qui vi morrete ma quanto al paese al quale brameranno tornare essi non vi torneranno questo conia è egli dunque un vaso spezzato infranto è egli un oggetto che non fa più alcun piacere perché sono dunque cacciati egli e la sua progenie lanciati in un paese che non conoscano oh paese oh paese oh paese ascolta la parola dell'eterno così parla l'eterno iscrivete quest'uomo come privo di figliuoli come un uomo che non prospererà durante i suoi giorni perché nessuno della sua progenie giungerà a sedersi sul trono di davide e a regnare ancora su giuda geremia capitolo ventitreesimo guai ai pastori che distruggono e disperdono il greggio del mio pascolo dice l'eterno perciò così parla l'eterno l'idio di israele riguardo ai pastori che pascono il mio popolo voi avete disperse le mie pecore le avete scacciate e non ne avete avuto cura ecco io vi punirò per la malvagità delle vostre azioni dice l'eterno e raccoglierò il rimanente delle mie pecore da tutti i paesi dove le ho cacciate e le ricondurrò ai loro pascoli e saranno feconde e moltiplicheranno e costituirò su loro dei pastori che le pastureranno ed esse non avranno più paura né spavento e non ne mancherà alcuna dice l'eterno ecco i giorni vengono dice l'eterno quando io farò sorgere a Davide un germoglio giusto il quale regnerà da re e prospererà e farà ragione e giustizia nel paese ai giorni d'esso giuda sarà salvato e israele sarà sicuro nella sua dimora e questo sarà il nome col quale sarà chiamato l'eterno nostra giustizia perciò ecco i giorni vengono dice l'eterno che non si dirà più l'eterno è vivente egli che ha tratto i figliuoli di israele fuori dal paese d'egitto ma l'eterno è vivente Geremia capitolo ventiquattresimo l'eterno mi fece vedere due canestre di fichi posti davanti al tempio dell'eterno dopo che Nebucadenestar re di Babilonia ebbe menato via da Gerusalemme e trasportato in cattività a Babilonia Iaconia figliuolo di Joachim re di Giuda e i capi di Giuda e i falegnami e i fabbri uno dei canestri conteneva dei fichi molto buoni come sono i fichi primatici e l'altro canestro conteneva dei fichi molto cattivi che non si potevano mangiare tanto erano cattivi e l'eterno mi disse che vedi Geremia ed io risposi dei fichi quelli buoni molto buoni e quelli cattivi molto cattivi da non potersi mangiare tanto sono cattivi e la parola dell'eterno mi fu rivolta in questi termini così parla l'eterno l'idio di Israele quali sono questi fichi buoni tali saranno quei di Giuda che ho mandati da questo luogo in cattività nel paese dei caldei io li riguarderò con favore l'occhio mio si poserà con favore su loro e le ricondurrò in questo paese li stabilirò fermamente e non li distruggerò più li pianterò e non li sradicherò più e darò loro un cuore per conoscere me che sono l'eterno saranno mio popolo e io sarò loro Dio perché si convertiranno a me con tutto il loro cuore e come si trattano questi fichi cattivi che non si possono mangiare tanto sono cattivi così dice l'eterno io tratterò Sedechiare di Giuda e i suoi principi e il residuo di quei di Gerusalemme quelli che sono rimasti in questo paese e quelli che abitano nel paese d'Egitto e farò sì che saranno agitati e maltrattati per tutti i regni della terra che diventeranno l'oggetto l'obbrobrio di proverbio di sarcasmo e di maledizione in tutti i luoghi dove li caccerò e manderò contro di loro la spada la fame la peste finché siano scomparsi dal suolo che avevo dato loro e ai loro padri Geremia capitolo venticinquesimo la parola che fu rivolta a Geremia riguardo a tutto il popolo di Giuda nel quarto anno di Joachim figlio di Giosia re di Giuda era il primo anno di Nabucca re di Babilonia e che Geremia pronunziò davanti a tutto il popolo di Giuda e a tutti gli abitanti di Gerusalemme dicendo dal tredicesimo anno di Giosia figliuolo di Amon re di Giuda fino ad oggi so già ventitre anni che la parola dell'Eterno mi è stata rivolta e che ve l'ho parlata del continuo fin dal mattino ma voi non avete dato ascolto l'Eterno vi ha pure mandato tutti i suoi servitori profeti ve li ha mandati del continuo fin dal mattino ma voi non avete obbedito né avete porto orecchio per ascoltare essi hanno detto convertasi ciascuno di voi dalla sua cattiva via e dalla malvagità delle sue azioni e voi abiterete di secolo in secolo sul suolo che l'Eterno ha dato a voi e ai vostri padri e non andate dietro ad altri dèi per conservirli e per prostarvi dinanzi a loro non mi provocate con le opere delle vostre mani e io non vi farò male alcuno ma voi non mi avete dato ascolto dice l'Eterno per provocarmi a vostro danno con l'opera delle vostre mani perciò così dice l'Eterno degli eserciti giacché non avete dato ascolto alle mie parole ecco io manderò a prendere tutte le nazioni del settentrione dice l'Eterno e manderò a chiamare Nabucadenestar re di Babilonia mio servitore e le farò venire contro questo paese e contro i suoi abitanti e contro tutte le nazioni che gli stanno dintorno e li voterò allo sterminio e li abbandonerò alla desolazione alla derisione e a una solitudine perpetua e farò cessare tra loro i gridi di gioia e i gridi di esultanza il canto dello sposo e il canto della sposa e il rumore della macina e la luce della lampada e tutto questo paese sarà ridotto in una solitudine e una desolazione e queste nazioni serviranno il re di Babilonia per settant'anni ma quando saranno compiuti settant'anni io punirò il re di Babilonia e quella nazione dice l'Eterno a motivo della loro iniquità e punirò il paese dei caldei e lo ridurrò in una desolazione perpetua e farò venire su quel paese tutte le cose che ho annunziate contro di lui tutto ciò che è scritto in questo libro ciò che Geremia ha profetizzato contro tutte le nazioni infatti nazioni numerose e repotenti ridurranno in servitù i caldei stessi e li retribuirò secondo le loro azioni secondo l'opera delle loro mani poiché così m'ha parlato l'Eterno l'Idio di Israele prendi di mano mia questa coppa del vino della mia ira e danne da bere a tutte le nazioni alle quali ti manderò esse berranno barcoleranno saranno come pazze a motivo della spada che io manderò fra loro e io presi la coppa di mano dell'Eterno e ne diedi a bere a tutte le nazioni alle quali l'Eterno mi mandava a Gerusalemme e alle città di Giuda ai suoi re ai suoi principi per abbandonarli alla rovina alla desolazione alla derisione alla maledizione come oggi si vede a faraone re d'Egitto ai suoi servitori ai suoi principi a tutto il suo popolo a tutta la mescolanza di popoli a tutti i re del paese di Ur a tutti i re del paese di Filistei ad Ascalon a Gaza a Ekron al residuo di Asdod a Edom a Moab ai figlioli di Ammon a tutti i re di Tiro a tutti i re di Sidon ai re delle isole d'oltremare a Dedan a Tema Abuse e a tutti quelli che si radono i canti della barba a tutti i re dell'Arabia a tutti i re della mescolanza di popoli che abitano nel deserto a tutti i re di Zimri a tutti i re d'Elam e a tutti i re di Media e a tutti i re del Settenzione vicini e lontani agli uni e agli altri e a tutti i regni del mondo che sono sulla faccia della terra e il re di Sheshach ne verrà dopo di loro tu dirai loro così parla l'Eterno degli eserciti l'Iddio di Israele bevete ubriacatevi vomitate cadete senza rialzarvi più dinnanzi alla spada che ho mandato fra voi e se ricusano di prendere dalla tua mano la coppa da bere di loro così dice l'Eterno degli eserciti voi berrete in ogni modo poiché ecco io comincio a punire la città sulla quale è invocato il mio nome e voi rimarrete del tutto impuniti voi non rimarrete impuniti poiché io chiamerò la spada su tutti gli abitanti della terra dice l'Eterno degli eserciti e tu profetizza loro tutte queste cose e di loro l'Eterno rugge dall'alto e fa risuonare la sua voce dalla sua santa dimora egli rugge fieramente contro la sua residenza manda un grido come quelli che calcan l'uva contro tutti gli abitanti della terra il rumore ne giunge fino all'estremità della terra poiché l'Eterno ha una lite con le nazioni egli entra in giudizio contro ogni carne gli empi li dà in balia della spada dice l'Eterno così parla l'Eterno degli eserciti ecco una calamità passa di nazione in nazione e un gran turbine si leva dall'estremità della terra in quel giorno gli uccisi dell'Eterno copriranno la terra dall'una all'altra estremità di essa e non saranno rimpianti né raccolti né seppelliti serviranno di letame sulla faccia del suolo urlate o pastori gridate voltatevi nella polvere o guide del gregge poiché è giunto il tempo in cui dovete essere scannati io vi frantumerò e cadrete come un vaso prezioso ai pastori mancherà ogni rifugio e le guide del gregge non avranno via di scampo so del grido dei pastori e l'urlo delle guide del gregge poiché l'Eterno devasta il loro pascolo e i tranquilli ovili sono ridotti al silenzio a motivo dell'ardente ira dell'Eterno egli ha abbandonato il suo ricetto come un leoncello poiché il loro paese è diventato una desolazione a motivo del furore della spada crudele a motivo dell'ardente ira dell'Eterno Geremia capitolo ventiseesimo nel principio del regno di Joachim figliuolo di Giosia re di Giuda fu pronunziata questa parola da parte dell'Eterno così parla l'Eterno presentati nel cortile della casa dell'Eterno e di a tutte le città di Giuda che vengono a prostrarsi nella casa dell'Eterno tutte le parole che ti ho comandato di dir loro non detrarre verbo forse daranno ascolto e si convertiranno ciascuno dalla sua via malvacia ed io mi pentirò del male che penso di fare per la malvagità delle loro azioni tu dirai così parla l'Eterno se non date ascolto se non camminate secondo la mia legge che vi ho posta dinnanzi se non date ascolto alle parole dei miei servitori profeti i quali vi mando che vi ho mandati fin dal mattino e non li avete ascoltati io tratterò questa casa come scilò e farò che questa città serva di maledizione presso tutte le nazioni della terra or i sacerdoti i profeti e tutto il popolo udirono Geremia che pronunziava queste parole nella casa dell'Eterno e avvene che come Geremia ebbe finito di pronunziare tutto quello che l'Eterno gli aveva comandato di dire a tutto il popolo i sacerdoti i profeti e tutto il popolo lo presero dicendo tu devi morire perché hai profetizzato nel nome dell'Eterno dicendo questa casa sarà come scilò e questa città sarà devastata e priva d'abitanti e tutto il popolo sadunò contro Geremia nella casa dell'Eterno e quando i capi di Giuda ebbero dite queste cose salirono nella casa del re alla casa dell'Eterno e si sedettero nell'ingresso della porta nuova della casa dell'Eterno e i sacerdoti e i profeti parlarono ai capi e a tutto il popolo dicendo quest'uomo merita la morte perché ha pronunziato contro questa città nel modo che avete udito coi vostri propri orecchi allora Geremia parlò a tutti i capi e a tutto il popolo dicendo l'Eterno mi ha mandato a profetizzare contro questa casa e contro questa città tutte le cose che avete udite ordunque emendate le vostre vie e le vostre azioni date ascolto alla voce dell'Eterno del vostro Dio e l'Eterno si pentirà del male che ha pronunziato contro di voi quanto a me eccomi nelle vostre mani fate di me quello che vi parà buono e giusto soltanto sappiate per certo che se mi fate morire mettete del sangue innocente addosso a voi e questa città e ai suoi abitanti perché l'Eterno mi ha veramente mandato a voi per farvi udire tutte queste parole allora i capi e tutto il popolo dissero ai sacerdoti e ai profeti quest'uomo non merita la morte perché ci ha parlato nel nome dell'Eterno del nostro Dio e alcuni degli anziani del paese si levarono a parlare così a tutta la radunanza del popolo Michea e il Morashita profetizzò ai giorni di Ezechia re di Giuda e parlò a tutto il popolo di Giuda in questi termini così dice l'Eterno degli eserciti Sion sarà arata come un campo Gerusalemme diventerà un monte di rovine e la montagna del tempio un'altura boscosa Ezechia re di Giuda e tutto Giuda lo misero e sia morte Ezechia non temette egli l'Eterno e non supplicò egli l'Eterno sì che l'Eterno si pentì del male che aveva pronunziato contro di loro e noi stiamo per fare un gran male a danno delle nostre anime vi fu anche un altro uomo che prefetizzò nel nome dell'Eterno Uria figliuolo di Scemaia di Chiriagiarim il quale le profetizzò contro questa città e contro questo paese e tutto per tutto come Geremia e quando il re Joachim e tutti i suoi uomini prodi e tutti i suoi capi ebbero udito le sue parole il re cercò di farlo morire ma Uria lo seppe ebbe paura e fuggì e andò in Egitto e il re Joachim mandò gli uomini in Egitto cioè Elnata figliuolo di Acbor e altra gente con lui e questi trassero Uria fuori d'Egitto e lo menarono al re Joachim il quale lo colpì con la spada e gettò il suo cadavere fra le sepolture dei figliuoli del popolo ma la mano di Acam figliuolo di Scefan fu con Geremia e impedì che fosse dato in mano del popolo per essere messo a morte Geremia capitolo ventisettesimo Nel principio del regno di Joachim figliuolo di Giosia re di Giuda questa parola fu rivolta dall'Eterno a Geremia in questi termini così prima detto l'Eterno fatti dei legami e dei giochi e metteteli sul collo poi mandi al re di Edom al re di Moab al re dei figliuoli di Amon al re di Tiro al re di Sidone mediante gli ambasciatori che sono venuti a Gerusalemme da Sedechia e di Giuda e ordina loro che dicano ai loro signori così parla l'Eterno degli eserciti di Dio di Israele direte questo ai vostri signori io ho fatto la guerra gli uomini e gli animali che sono sulla faccia della terra con la mia gran potenza e con il mio braccio stesso ed ho la terra a chi mi par bene ed ora do tutti questi paesi in mano di Nabucodonestà re di Babilonia mio servitore e gli do pure gli animali della campagna perché gli sian soggetti e tutte le nazioni saranno soggette a lui al suo figliolo e al figliolo del suo figliolo finché giunga il tempo anche per il suo paese e allora molte nazioni e i grandi re lo ridurranno in servitù e avverrà che la nazione o il regno che non vorrà sottomettersi a lui a Bucodonestà re di Babilonia e non vorrà piegare il collo sotto il gioco del re di Babilonia quella nazione io la punirò dice l'Eterno con la spada con la fame con la peste finché io non l'abbia sterminata per mano di lui voi dunque non ascoltate i vostri profeti nei vostri indovini nei vostri sognatori nei vostri pronosticatori nei vostri maghi che vi dicono non sarete asserviti al re di Babilonia poiché essi vi profetizzano menzogna per allontanarvi dal vostro paese poiché io vi scacci e voi perirete ma la nazione che piegherà il suo collo sotto il gioco del re di Babilonia egli sarà soggetta io la lascerò stare nel suo paese dice l'Eterno ed essa la coltiverà e vi dimorerà io parlai dunque a Sedecchiere di Giuda in conformità di queste parole e dissi piegate il collo sotto il gioco del re di Babilonia sottomettetevi a lui e al suo popolo e vivrete perché vorreste tu e il tuo popolo per la spada per la fame e per la peste come l'Eterno ha detto della nazione che non si assoggetterà al re di Babilonia e non date ascolto alle parole dei profeti che vi dicono non sarete asserviti al re di Babilonia perché vi profetizzano menzogna poiché io non li ho mandati dice l'Eterno ma profetizzano falsamente nel mio nome perché io vi scacci e voi perirete voi e i profeti che vi profetizzano parlai pure ai sacerdoti e a tutto questo popolo e dissi così parla l'Eterno non date ascolto alle parole dei vostri profeti quali vi profetizzano dicendo ecco gli arredi della casa dell'Eterno saranno in breve riportati da Babilonia poiché vi profetizzano menzogna non date loro ascolto sottomettetevi al re di Babilonia e vivrete perché questa città sarebbe ridotta in una desolazione se sono profeti e se la parola dell'Eterno è con loro intercedano ora presso l'Eterno degli eserciti perché gli arredi che sono rimasti nella casa dell'Eterno nella casa del re di Giuda e in Gerusalemme non vadano in Babilonia poiché così parla l'Eterno degli eserciti riguardo alle colonne al mare alle basi e al resto degli arredi rimasti in questa città e che non furono presi da Nebucadonestà re di Babilonia quando menò in cattività da Gerusalemme in Babilonia Iaconia figliuolo di Joachim re di Giuda e tutti i nobili di Giuda e di Gerusalemme così dico parla l'Eterno degli eserciti l'Iddio di Israele riguardo agli arredi che rimangono nella casa dell'Eterno nella casa del re di Giuda e in Gerusalemme saranno portati a Babilonia e qui vi resteranno finché io li cercherò dice l'Eterno e li farò risalire e ritornare in questo luogo Geremia capitolo ventottesimo in quello stesso anno al principio del regno di Zedecchia re di Giuda l'anno quarto il quinto mese Anania figliuolo di Azzur profeta che era a Gaboan mi parlò nella casa dell'Eterno in presenza dei sacerdoti e di tutto il popolo dicendo così parla l'Eterno degli eserciti l'Iddio di Israele io spezzo il gioco del re di Babilonia entro due anni lo farò tornare in questo luogo tutti gli arredi della casa dell'Eterno che Nabucodonestà re di Babilonia ha tolto da questo luogo e ha portati a Babilonia e ricondurrò in questo luogo dice l'Eterno Iaconia figliuolo di Joachim re di Giuda e tutti quei di Giuda che sono stati menati in cattività in Babilonia perché spezzerò il gioco del re di Babilonia e il profeta Geremia rispose al profeta Anania in presenza dei sacerdoti e in presenza di tutto il popolo che si trovava nella casa dell'Eterno il profeta Geremia disse Amen così faccia l'Eterno l'Eterno mandi ad effetto quello che tu hai profetizzato e faccia tornare da Babilonia in questo luogo gli arredi della casa dell'Eterno e tutti quelli che sono stati menati in cattività però ascolta ora questa parola che io pronuncio in presenza tua e in presenza di tutto il popolo i profeti che apparvero prima di me e prima di te fin dai tempi antichi profetarono contro molti paesi e contro grandi regni la guerra la fame la peste quanto al profeta che profetizza la pace allorché si sarà dempiuta la sua parola egli sarà riconosciuto come un vero mandato dall'Eterno allora il profeta Anania prese il gioco di sul collo del profeta Geremia e lo spezzò e Anania parlò in presenza di tutto il popolo e disse così parla l'Eterno in questo modo io spezzerò il gioco di Nabucca de Nestar re di Babilonia di sul collo di tutte le nazioni entro lo spazio di due anni e il profeta Geremia se ne andò allora la parola dell'Eterno fu rivolta a Geremia dopo che il profeta Anania ebbe spezzato il gioco di sul collo del profeta Geremia e disse va e di ad Anania così parla l'Eterno tu hai spezzato il gioco di legno ma hai fatto invece di quello un gioco di ferro poiché così parla l'Eterno degli eserciti l'Ideo di Israele io metto un gioco di ferro sul collo di tutte queste nazioni perché perché siano assoggettate a Nabucca di Nesta re di Babilonia ed esse gli saranno assoggettate e gli do pure gli animali della campagna e il profeta Geremia disse al profeta Anania ascolta Anania l'Eterno non ha mandato tu e tu hai indotto questo popolo a confidare nella menzogna perciò così parla l'Eterno ecco io ti scaccio di sulla faccia della terra quest'anno morrai perché hai parlato di ribellione contro l'Eterno e il profeta Anania morì quello stesso anno nel settimo mese Geremia capitolo ventinovesimo or queste sono le parole della lettera che il profeta Geremia mandò da Gerusalemme al residuo degli anziani in cattività ai sacerdoti ai profeti e a tutto il popolo che Nabucca de Nestar aveva menato in cattività da Gerusalemme in Babilonia dopo che il re Iaconia la regina gli enucchi i principi di Giuda e di Gerusalemme i falegnami i fabbri furono usciti da Gerusalemme la lettera fu portata per mandi e Lasa figliolo di Schaffan e di Gamaria figliolo di Ilchia che Sedachia re di Giuda mandava a Babilonia da Nabucca de Nestar re di Babilonia e se diceva così parla l'Eterno degli eserciti l'Iddio di Israele a tutti i deportati che gli ha fatto menare in cattività da Gerusalemme in Babilonia fabbricate delle case e abitatele piantate dei giardini e mangiate nel frutto prendete delle moglie e generate figlioli e figlioli prendete delle moglie per i vostri figlioli date marito alle vostre figliole perché facciano figlioli e figliole e moltiplicate laddove siete e non diminuite cercate il bene della città dove io vi ho fatti menare in cattività e pregate l'Eterno per essa perché dal bene d'essa dipende il vostro bene poiché così dice l'Eterno degli eserciti di Dio di Israele i vostri profeti che sono in mezzo a voi e i vostri indovini non vi ingannano e non date retta ai sogni che fate giacché quelli vi profetano falsamente nel mio nome io non li ho mandati dice l'Eterno poiché così parla l'Eterno quando settant'anni saranno compiuti per Babilonia io vi visiterò e manderò ad effetto per voi la buona parola facendovi tornare in questo luogo poiché io so i pensieri che medito per voi dice l'Eterno pensieri di pace e non di male per darvi un avvenire e una speranza voi mi invocherete e verrete a pregarmi e io vi esaudirò voi mi cercherete e mi troverete perché mi cercherete con tutto il vostro cuore e io mi lascerò trovare da voi dice l'Eterno e vi farò tornare dalla vostra cattività vi raccoglierò di fra tutte le nazioni e da tutti i luoghi dove vi ho cacciati dice l'Eterno e vi ricondurrò nel luogo dove vi ho fatti andare in cattività voi dite l'Eterno ci ha suscitato dei profeti in Babilonia ebbene così parla l'Eterno riguardo al re che siede sul trono di Davide riguardo a tutto il popolo che abita in questa città ai vostri fratelli che non sono andati con voi in cattività così parla l'Eterno degli eserciti ecco io manderò contro di loro la spada la fame la peste e li renderò come degli orribili fichi che non si possano mangiare tanto sono cattivi e li inseguirò con la spada con la fame con la peste farò sì che saranno agitati fra tutti i regni della terra e li abbandonerò alla esecrazione allo stupore alla derisione al vituperio fra tutte le nazioni dove li caccerò perché non andato ascolto alle mie parole dice l'Eterno che io ho mandate loro a dire dai miei servitori profeti del continuo fin dal mattino ma essi non andato ascolto dice l'Eterno ascoltate dunque la parola dell'Eterno voi tutti che ho mandato in cattività da Gerusalemme in Babilonia così parla l'Eterno degli eserciti l'Idio di Israele riguardo ad Echab figliuolo di Colahia e riguardo a Sedachia figliuolo di Maeseia che vi profetizzano la menzogna nel mio nome ecco io do costoro in mano di Nabucadenestar re di Babilonia ed egli metterà a morte davanti agli occhi vostri da essi trarrà una formula di maledizione fra tutti quelli di Giuda che sono in cattività in Babilonia e si dirà l'Eterno ti tratti come Sedachia e come Acab che il re di Babilonia ha fatto arrostire al fuoco perché costoro han fatto delle cose nefande in Israele han commesso adulterio con le mogli del loro prossimo e hanno pronunziato in mio nome parole di menzogna il che io non avevo loro comandato io stesso lo so e nessun testimone dice l'Eterno e quando ascemaia il nehe la mita li parlerai in questo modo così dice l'Eterno degli eserciti l'Idio di Israele tu hai mandato in tuo nome una lettera a tutto il popolo che è in Gerusalemme a Sofonia figliolo di Maeseia il sacerdote e a tutti i sacerdoti per dire l'Eterno ti ha costituito sacerdote in luogo del sacerdote Geoiada perché vi sono nella casa dell'Eterno dei sovrintendenti per sorvegliare ogni uomo che è pazzo e che fa il profeta e perché tu lo metta nei ceppi e ai ferri ed ora perché non reprimi tu Geremia di Anatot che fa il profeta tra voi e ci ha perfino mandato a dire a Babilonia la cattività sarà lunga fabbricatevi delle case abitatele piantatele dei giardini e mangiate nel frutto ora il sacerdote Sofonia lesse questa lettera in presenza del profeta Geremia e la parola dell'Eterno fu rivolta a Geremia dicendo manda dire a tutti quelli che sono in cattività così parla l'Eterno riguardo a Scemaia il Neelamita perché Scemaia vi ha profetato benché io non l'abbia mandato e vi ha fatto confidare nella menzogna così parla l'Eterno ecco io punirò Scemaia il Neelamita e la sua progenie e non vi sarà alcuno dei suoi discendenti che abiti in mezzo a questo popolo ed egli non vedrà il bene che io farò al mio popolo dice l'Eterno poiché egli ha parlato di ribellione contro l'Eterno Geremia capitolo trentesimo la parola che fu rivolta a Geremia dall'Eterno in questi termini così parla l'Eterno l'Idio di Israele scriviti in un libro tutte le parole che ho dette poiché ecco i giorni vengono dice l'Eterno quando io ritrarrò dalla cattività il mio popolo di Israele e di Giuda dice l'Eterno e le ricondurrò nel paese che diede ai loro padri ed essi lo possederanno queste sono le parole che l'Eterno ha pronunziate riguardo ad Israele e a Giuda così parla l'Eterno noi udiamo un grido di terrore di spavento e non di pace informatevi e guardate se un maschio partorisce perché dunque vedo io tanti degli uomini con le mani sui fianchi come donna partoriente perché tutte le facce sono diventate pallide ahimè perché quel giorno è grande non ve ne fu mai altro di simile è un tempo di disdretta per Giacobbe ma pure ei ne sarà salvato in quel giorno dice l'Eterno degli eserciti io spezzerò il suo gioco di sul tuo collo e romperò i tuoi legami e gli stranieri non ti faranno più il loro schiavo ma quei di Israele serviranno l'Eterno il loro Dio e Davide l'orore che io suscitirò in loro tu dunque o Giacobbe mio servitore non temere dice l'Eterno non ti sgomentare o Israele poiché ecco io ti salverò da lontano paese salverò la tua progenie della terra della tua cattività Giacobbe ritornerà sarà in riposo sarà tranquillo e nessuno più lo spaventerà poiché io sono teco dice l'Eterno per salvarti io annienterò tutte le nazioni tra le quali io ti ho disperso ma non annienterò te però ti castigherò con giusta misura e non ti lascerò del tutto impunito così parla l'Eterno la tua ferita è incurabile la tua piaga è grande nessuno prende in mano la tua causa per fasciare la tua piaga tu non hai medicamenti a guarirla tutti i tuoi amanti t'hanno dimenticata non si curano più di te poiché io t'ho percossa come si percuote un nemico t'ho inflitto la correzione di un uomo crudele per la grandezza della tua iniquità perché i tuoi peccati sono andati aumentando perché gridi a causa della tua ferita il tuo dolore è insanabile io ti ho fatto queste cose per la grandezza della tua iniquità perché i tuoi peccati sono andati aumentando non di meno tutti quelli che ti divorano saranno divorati tutti i tuoi nemici tutti quanti andranno in cattività quelli che si spogliano saranno spogliati quelli che ti saccheggiano li abbandonerò al saccheggio ma io medicherò le tue ferite ti guarirò dalle tue piaghe dice l'Eterno poiché ti chiami in la scacciata la Sion di cui nessuno si cura così parla l'Eterno ecco io traggo dalla cattività le tende di Giacobbe e doppietà delle sue dimore le città saranno riedificate sulle loro rovine e i palazzi saranno abitati come di consueto e ne usciranno azioni di grazie voci di gente festeggiante io li moltiplicherò e non saranno più ridotti a pochi li renderò onorati e non saranno più avviliti i suoi figlioli saranno come furono un tempo la sua raunanza sarà stabilita dinanzi a me e io punirò tutti i loro oppressori il loro principe sarà uno d'essi e chi e chi li signoreggerà uscirà di mezzo a loro io lo farò avvicinare ed egli verrà a me poiché chi disporrebbe il suo cuore ad accostarsi a me dice l'eterno voi sarete il mio popolo ed io sarò il vostro dio ecco la tempesta dell'eterno il furore scoppia la tempesta impervista scroscia sul capo degli empi l'ardente ira dell'eterno non s'acqueterà finché non abbia seguiti compiuti dei segni del suo cuore negli ultimi giorni lo capirete Geremia capitolo trentunesimo in quel tempo dice l'eterno io sarò l'iddio di tutte le famiglie di israele ed esse saranno il mio popolo così parla l'eterno il popolo scampato dalla spada ha trovato grazia nel deserto io sto per dar riposo a israele da tempi lontani l'eterno mi è apparso sì io t'amo d'un amore eterno perciò ti prolungo la mia bontà io ti riedificherò e tu sarai riedificata o vergine d'israele tu sarai di nuovo adorna dei tuoi tamburelli e uscirai in mezzo alle danze di quelli che si allegrano pianterai ancora delle vigne sui monti di samaria e i piantatori pianteranno e raccoglieranno il frutto poiché il giorno verrà quando le guardie grideranno sul monte d'efraim levatevi saliamo a sion all'eterno che è il nostro dio poiché poiché così parla l'eterno levate canti di gioia per giacobbe date ingridi per il capo delle nazioni fate uscire delle laudi e dite o eterno salva il tuo popolo il residuo di israele ecco io li riconduco dal paese del settentrione e li raccolgo dall'estremità della terra fra loro sono il cieco e lo zoppo la donna incinta e quella in doglie di parto una gran moltitudine che ritorna qua vengono piangenti li conduco supplichevoli li meno ai torrenti d'acqua per una via dritta dove non inciamperanno perché sono diventato un padre per israele ed Efraim è il mio primogenito o nazioni ascoltate la parola dell'eterno e proclamatela alle isole lontane e dite colui che ha disperso israele lo raccoglie e lo custodisce come un pastore il suo grege poiché l'eterno ha riscattato Giacobbe l'ha redento dalla mano d'uno più forte di lui e quelli verranno e canteranno di gioia sulle alture di Sion e affluiranno verso i beni dell'eterno al frumento al vino all'olio al frutto dei gregi e degli armenti e l'anima loro sarà come un giardino annaffiato e non continueranno più all'anguire allora la vergine si rallegrerà nella danza i giovani gioiranno insieme ai vecchi io muterò il loro lutto in gioia e li consolerò li rallegrerò liberandoli dal loro dolore satollerò di grasso l'anima dei sacerdoti ed il mio popolo sarà saziato dei miei beni dice l'eterno così parla l'eterno se udita una voce in rama un lamento un pianto amaro rachele piange i suoi figlioli e la rifiuta ad essere consolata dei suoi figlioli perché non sono più così parla l'eterno trattieni la tua voce dal piangere i tuoi occhi dal versare lacrime poiché l'opera tua sarà ricompensata dice l'eterno essi ritorneranno dal paese del nemico e v'è speranza per il tuo avvenire dice l'eterno i tuoi figlioli ritorneranno nelle loro frontiere io odo odo Efraim che si ramarica tu mai castigato e io sono stato castigato come un giovenco non domato convertimi e io mi convertirò già che tu sei l'eterno il mio dio dopo che mi sono sviato io mi sono pentito e dopo che ho riconosciuto il mio stato mi son battuto l'anca e son coperto di vergogna confuso perché porto l'opproprio della mia giovinezza Efraim e egli dunque per me un figliuolo siccaro un figliuolo prediletto da che io parlo contro di lui è più vivo e continuo il ricordo che ho di esso perciò le mie viscere si commuovono per lui e io certo ne avrò pietà dice l'eterno rizza delle pietre miliari fatti dei pali indicatori poni bene in mente alla strada alla via che è eseguita ritorna o vergine di israele ritorna a queste città che son tue fino a quando ne andrai tu vagabonda o figliuola infedele poiché l'eterno crea una cosa nuova sulla terra la donna che corteggia l'uomo così parla l'eterno degli eserciti l'iddio di israele ancora si udirà questa parola nel paese di giuda e nelle sue città quando li avrò fatti tornare dalla cattività l'eterno ti benedica o dimora di giustizia o monte di santità la si stabiliranno assieme a giuda e a tutte le sue città gli agricoltori e quei che menano i greggi poiché io ristorerò l'anima stanca e sazierò ogni anima languente a questo punto mi sono svegliato e ho guardato e il mio sonno m'è stato dolce ecco i giorni vengono dice l'eterno che io seminerò la casa di israele e la casa di giuda di semenza d'uomini e di semenza d'animali e avverrà che come ho vegliato su loro per svellare per demolire per rovesciare per distruggere per nuocere così veglierò su loro per edificare e per piantare dice l'eterno in quei giorni non si dirà più i padri a mangiato l'agresto e i denti dei figliuoli si sono allegati ma ognuno morrà per la propria iniquità chiunque mangerà l'agresto ne avrà i denti allegati ecco i giorni vengono dice l'eterno che io farò un nuovo patto con la casa di israele e con la casa di giuda non come il patto che fermai con i loro padri il giorno che li pressi per mano per farli fuori dal paese d'egitto patti che essi violarono benché io fossi loro signore dice l'eterno ma questo è il patto che farò con la casa di israele dopo quei giorni dice l'eterno io metterò la mia legge nell'intimo loro la scriverò sul loro cuore e io sarò loro dio ed essi saranno mio popolo e non insegneranno più ciascuno il suo compagno e ciascuno il suo fratello dicendo conoscete l'eterno poiché tutti mi conosceranno dal più piccolo al più grande dice l'eterno poiché io perdonerò la loro iniquità e non mi ricorderò più del loro peccato così parla l'eterno che ha dato il sole come luce del giorno e le leggi alla luna e alle stelle perché sian luce alla notte che solleva il mare sì che muggon le onde colui che ha nome l'eterno degli eserciti se quelle leggi vengono a mancare dinanzi a me dice l'eterno allora anche la progene di israele cesserà ad esseri in perpetua una nazione nel mio cospetto così parla l'eterno se i cieli di sopra possono essere misurati e le fondamente della terra di sotto scandagliate allora anch'io rigetterò tutta la progene di israele per tutto quello che essi hanno fatto dice l'eterno ecco i giorni vengono dice l'eterno che questa città sarà riedificata in onore dell'eterno dalla torre di Anna Anel alla porta dell'angolo e di là la corda per misurare sarà tirata in linea dritta fino al colle di Gerab e girerà dal lato di Goa e tutta la valle dei cadaveri delle ceneri e tutti i campi fino al torrente di Kidron fino all'angolo della porta dei cavalli verso oriente saranno consacrati l'eterno e non saranno più sconvolti né distrutti in perpetuo Geremia capitolo trentaduesimo la parola che fu rivolta a Geremia dall'eterno nel decimo anno di Sedechia re di Giuda che fu l'anno diciottesimo di Nabucca de Nestar l'esercito del re di Babilonia assediava allora Gerusalemme e il profeta Geremia era rinchiuso nel cortile della prigione che era nella casa del re di Giuda ve l'aveva fatto rinchiudere Sedechia re di Giuda col dirgli perché vai tu pronunziando dicendo così parla l'eterno ecco io do questa città in man del re di Babilonia ed ella prenderà e Sedechia re di Giuda non scamperà dalle mani dei caldei ma sarà per certo dato in mano del re di Babilonia e parlerà con lui bocca a bocca e lo vedrà faccia a faccia e Nabucca di Nestar menerà Sedechia a Babilonia ed egli resterà qui finché io lo visiti dice l'eterno se combattete contro i caldei voi non riuscirete a nulla e Geremia disse la parola del n'eterno mi è stata rivolta in questi termini ecco Anameel figliuolo di Shalom tuo zio viene da te per dirti comprati il mio campo che è ad Anatot poiché tu hai diritto di riscatto per comprarlo e Anameel figliuolo del mio zio venne da me secondo la parola dell'eterno nel cortile della prigione e mi disse ti prego compra il mio campo che è ad Anatot nel territorio di Beniamino giacché tu hai diritto di successione e il diritto di riscatto compratelo allora riconobbi che questa era parola dell'eterno ed io comprai da Anameel figliuolo di mio zio il campo che era ad Anatot gli pesai il denaro diciassette sicli d'argento scrissi tutto questo in un atto lo sigillai chiamai i testimoni e pesai il denaro nella bilancia poi presi l'atto di compra quello sigillato contenente i termini e le condizioni e quello aperto e consegnai l'atto di compra a Baruch figliuolo di Neria figliuolo di Messia in presenza di Anameel mio cugino in presenza dei testimoni che avevano sottoscritto l'atto di compra e in presenza di tutti i giudei che sedevano nel cortile della prigione poi davanti a loro diedi quest'ordine a Baruch così parla l'eterno degli eserciti l'idio di Israele prendi questi atti l'atto di compra tanto quello che è sigillato quanto quello che è aperto e metterli in un vaso di terra perché si conservino lungo tempo poiché così parla l'eterno degli eserciti l'idio di Israele si comprano ancora delle case e dei campi e delle vigne in questo paese e dopo che io ebbi consegnato l'atto di compra a Baruch figliuolo di Neria pregai l'eterno dicendo è potente in opere e hai gli occhi aperti su tutte le vie dei figliuoli degli uomini per rendere a ciascuno secondo le sue opere secondo il frutto delle sue azioni tu hai fatto nel paese d'Egitto in Israele e fra gli altri uomini fino a questo giorno miracoli e prodigi e ti sei acquistato un nome qual è oggi tu traesti il tuo popolo fuori dal paese d'Egitto con miracoli e prodigi con mano potente e braccio steso con gran terrore ed esti loro questo paese che avevi giurato ai loro padri di da loro un paese dove scorre il latte e il miele ed essi entrarono e ne presero possesso ma non hanno ubbidito alla tua voce e non han camminato secondo la tua legge tutto quello che avevi loro comandato di fare essi non l'hanno fatto perciò tu hai fatto venire su di essi tutti questi mali ecco le opere d'assedio giungono fino alla città per prenderla e la città vinta dalla spada dalla fame e dalla peste è data in mano dei caldei che combattano contro di lei quello che tu hai detto è avvenuto ed ecco tu lo vedi eppure o Signore o Eterno tu m'hai detto comprati con denaro il campo e chiama dei testimoni e la città è data in mano dei caldei allora la parola dell'Eterno fu rivolta a Geremia in questi termini ecco io sono l'Eterno l'iddio d'ogni carne va egli qualche cosa di troppo difficile per me perciò così parla l'Eterno ecco io do questa città in man dei caldei e in man di Nabucadenestar re di Babilonia il quale la prenderà e i caldei che combattono contro questa città ventreranno e vappicheranno fuoco e la incendieranno con le case sui tetti delle quali hanno offerto profumi a Baal e fatto libazioni ad altri dei per provocarmi a Dira poiché i figlioli di Israele e i figlioli di Giuda non hanno fatto altro fin dalla loro fanciullezza che qual è che è male agli occhi miei già che i figlioli di Israele non hanno fatto che provocarmi ad Dira con l'opera delle loro mani dice l'Eterno poiché questa città dal giorno che fu edificata fino ad oggi è stata una continua provocazione alla mia ira e al mio furore sicché la voglio toglier via dalla mia presenza a motivo di tutto il male che i figlioli di Israele e i figlioli di Giuda hanno fatto per provocarmi ad Dira essi i loro re i loro principi i loro sacerdoti i loro profeti gli uomini di Giuda e gli abitanti di Gerusalemme e mi hanno votato non la faccia ma le spalle e sebbene io li abbia ammaestrati del continuo fino dalla mattina essi non hanno dato ascolto per ricevere la correzione ma hanno messo le loro abominazioni nella casa sulla quale è invocato il mio nome per contaminarla e hanno edificati degli altri luoghi di Baal che sono nella valle dei figlioli di Inom per far passare per il fuoco i loro figlioli e le loro figliole offrendoli a Molok una cosa si è fatta io non l'ho comandata loro e non mi è venuto mai in mente che si dovesse commettere una tale abominazione facendo peccare Giuda ma ora in seguito a tutto questo così parla l'Eterno l'Iddio di Israele riguardo a questa città della quale voi dite che ella è data in mano del re di Babilonia per la spada per la fame e per la peste ecco li raccoglierò da tutti i paesi dove li ho cacciati nella mia ira nel mio furore nella mia grande indignazione e li farò tornare in questo luogo e ve li farò dimorare al sicuro ed essi saranno il mio popolo ed io sarò il loro Dio e darò loro uno stesso cuore una stessa via perché mi temano in perpetuo per il loro bene e per quello che dei loro figlioli dopo di loro ed io farò con loro un patto eterno che non mi ritrarrò più da loro per cessare di fare loro del bene e metterò il mio testimone nel loro cuore perché non si dipartino da me e metterò la mia gioia nel far loro del bene e li pianterò in questo paese con fedeltà con tutto il mio cuore con tutta l'anima mia poiché così parla l'eterno come ho fatto venire su questo popolo tutto questo gran male così farò venire su lui tutto il bene che gli prometto si compreranno dei campi in questo paese del quale voi dite è desolato non v'è più né uomo né bestia è dato in man dei caldei si compreranno dei campi con denaro se ne scriveranno gli atti si sigilleranno si chiameranno testimoni nel paese di Beniamino e nei luoghi intorno a Gerusalemme nelle città di Giuda nelle città della contrada montuosa nelle città della pianura nella città del mezzogiorno perché io farò tornare quelli che sono in cattività dice l'Eterno Geremia capitolo trentatreesimo la parola dell'Eterno fu rivolta per la seconda volta a Geremia in questi termini mentre egli era ancora rinchiuso nel cortile della prigione così così parla l'Eterno che sta per far questo l'Eterno che lo concepisce per mandarlo ad effetto colui che ha nome l'Eterno invocami e io ti risponderò e ti annunzierò cose grandi e impenetrabili che tu non conosci poiché così parla l'Eterno l'Iddio di Israele riguardo alle case di questa città e riguardo alle case dei re di Giuda che saranno diroccate per far fronte ai terrapieni e dalla spada del nemico quando si verrà a combattere contro i caldei e a riempire quelle case di cadaveri d'uomini che io percuoterò nella mia ira e nel mio furore per le cui malvagità io nasconderò la mia faccia a questa città ecco io recherò ad essa medicazione e rimedi e guarirò i suoi abitanti e aprirò loro un tesoro di pace di verità e farò tornare dalla cattività Giuda e Israele e li ristabilirò come erano prima e li purificherò di tutta l'iniquità con la quale hanno peccato contro di me e perdonerò loro tutte le iniquità con le quali hanno peccato contro di me e si sono ribellati a me e questa città sarà per me un palese argomento di gioia di lode di gloria fra tutte le nazioni della terra che udranno tutto il bene che io sto per far loro e temeranno e tremeranno a motivo di tutto il bene e di tutta la pace che io procurerò a Gerusalemme così parla l'eterno in questo luogo del quale voi dite è un deserto e non v'è più uomo né bestia nelle città di Giuda e per le strade di Gerusalemme che sono desolate e dove non è più né uomo né abitante né bestia sudranno ancora i gridi di gioia i gridi di esultanza la voce dello sposo e la voce della sposa la voce di quelli che dicano celebrate l'eterno degli eserciti perché l'eterno è buono e poiché la sua benignità dura in perpetuo e che portano l'offerta di azioni di grazie nella casa dell'eterno poiché io farò tornare i deportati del paese e lo stabilirò come era prima dice l'eterno così parla l'eterno degli eserciti in questo luogo che è deserto dove non v'è più né uomo né bestia e in tutte le sue città vi saranno ancora delle dimore di pastore che faranno riposare i loro greggi nelle città della contrada montuosa nelle città della pianura nelle città del mezzogiorno nel paese di beniamino nei dintorni di gerusalemme e nelle città di giuda le pecole passeranno ancora sotto la mano di colui che le conta dice l'eterno ecco i giorni vengono dice l'eterno che io manderò ad effetto la buona parola che ho pronunziato riguardo alla casa di israele riguardo alla casa di giuda in quei giorni e in quel tempo io farò germogliare a davide un germe di giustizia ed esso farà ragione e giustizia nel paese in quei giorni giuda sarà salvato e gerusalemme abiterà al sicuro e questo è il nome onde sarà chiamato l'eterno nostra giustizia poiché così parla l'eterno non verrà mai meno a davide chi segga sul trono della casa di israele e ai sacerdoti levitici non verrà meno nel mio cospetto chi offra olocausti chi faccia fumare le offerte e chi faccia tutti i giorni i sacrifici e la parola dell'eterno fu rivolta a geremia in questi termini così parla l'eterno se voi potete annullare il mio patto col giorno e il mio patto con la notte sì che il giorno e la notte non vengano al tempo loro allora si potrà anche annullare il mio patto con davide mio servitore sì che egli non abbia più figliuolo che regni sul suo trono e coi sacerdoti levitici miei ministri come non si può contare l'esercito del cielo nel misurare l'arena del mare così io moltiplicherò la progenie di davide mio servitore e i leviti che fanno il mio servizio la parola dell'eterno fu rivolta a Geremia in questi termini non hai tu posto mente alle parole di questo popolo quando va dicendo le due famiglie che l'eterno aveva scelte e le ha rigettate così disprezzano il mio popolo che agli occhi loro non è più una nazione così parla l'eterno se io non ho stabilito il mio patto col giorno e con la notte e se non ho fissato le leggi del cielo e della terra allora rigetterò anche la progenie di Giacobbe e di Davide mio servitore e non prenderò più dal suo lineaggio i reggitori della progenie di Abramo di Isacco e di Giacobbe perché io farò tornare i loro esoli e avrò pietà di loro Geremia capitolo trentaquattresimo la parola che fu rivolta dall'eterno in questi termini è Geremia quando Nabucca de Nestar re di Babilonia e tutto il suo esercito e tutti i regni della terra sottoposti al suo dominio e tutti i popoli combattevano contro Gerusalemme e contro tutte le sue città così parla l'eterno l'iddio di Israele va parla a Sedechia re di Giuda e digli così parla l'eterno ecco io do questa città in mano del re di Babilonia il quale la darà alle fiamme e tu non scamperai dalla sua mano ma sarai certamente preso e sarai dato in sua mano e i tuoi occhi vedranno gli occhi del re di Babilonia egli ti parlerà da bocca a bocca e tu andrai a Babilonia non di meno o Sedechia re di Giuda ascolta la parola dell'eterno così parla l'eterno riguardo a te tu non morrai per la spada tu morrai in pace e come si arsero a Romi per i tuoi padri gli antichi re tuoi predecessori così se ne arderanno per te e si farà cordoglio per te dicendo ahimè signore poiché sono io quelli che pronunzia questa parola dice l'eterno e il profeta Geremia disse tutte queste parole a Sedechia re di Giuda a Gerusalemme mentre l'esercito del re di Babilonia combatteva contro Gerusalemme e contro tutte le città di Giuda che resistivano ancora cioè contro Lachis e Aseca che erano tutte quelle che rimanevano in fatto di città fortificate fra le città di Giuda la parola che fu rivolta dall'eterno a Geremia dopo che il re Sedechia ebbe fatto un patto con tutto il popolo di Gerusalemme di proclamare l'emancipazione per la quale ognuno doveva rimandare in libertà il suo schiavo e la sua schiava ebreo ed ebrea e nessuno doveva tener più in schiavitù alcun suo fratello giudeo e tutti i capi e tutto il popolo che erano entrati nel patto di rimandare in libertà ciascuno il proprio servitore la propria serva e di non tenerli più in schiavitù ubbidirono e li rimandarono ma poi mutarono e fecero ritornare gli schiavi e le schiave che avevano affrancati e li risoggettarono ad essere loro schiavi e schiave la parola dell'Eterno fu dunque rivolta dall'Eterno a Geremia in questi termini così parla l'Eterno l'Idio di Israele io fermai un patto coi vostri padri il giorno che li trassi fuori dal paese d'Egitto dalla casa di schiavitù e dissi loro al termine di sette anni ciascuno di voi rimandi libero il suo fratello ebreo che si sarà venduto a lui ti serva sei anni poi rimandalo da casa tua libero ma i vostri padri non ubbidirono e non prestarono orecchio e voi eravate oggi tornati a fare ciò che era retto agli occhi miei proclamando l'emancipazione ciascuno al suo prossimo e avevate fermato un patto nel mio cospetto nella casa sulla quale è invocato il mio nome ma siete tornati indietro e avete profanato il mio nome ciascuno di voi ha fatto ritornare il suo schiavo e la sua schiava che avevate rimandati in libertà a loro piacere e li avete assoggettati per essere vostri schiavi e schiave perciò così parla l'Eterno voi non mi avete ubbidito proclamando l'emancipazione ciascuno al suo fratello e ciascuno al suo prossimo ecco io proclamo la vostra emancipazione dice l'Eterno per andare incontro alla spada alla peste e alla fame e farò che sarete agitati per tutti i regni della terra e darò gli uomini che hanno trasgredito il mio patto e non hanno messo ad effetto le parole del patto che avevano fermato nel mio cospetto passando in mezzo le parti del vitello che avevano tagliato in due darò dico i capi di Giuda i capi di Gerusalemme gli enuchi i sacerdoti e tutto il popolo del paese che passarono in mezzo alle parti del vitello in mano dei loro nemici e in mano di quelli che cercano la loro vita e i loro cadaveri serviranno di pasto agli uccelli del cielo e alle bestie della terra e darò sedecchiare di Giuda e i suoi capi in mano dei loro nemici e in mano di quelli che cercano la loro vita e in mano dell'esercito del re di Babilonia che si è allontanato da voi ecco io darò l'ordine dice l'Eterno e li farò ritornare contro questa città essi combatteranno contro di lei la prenderanno la daranno alle fiamme e io farò delle città di Giuda una desolazione senza abitanti Geremia capitolo trentacinquesimo la parola che fu rivolta a Geremia dall'Eterno al tempo di gioia Kim figliuolo di Giosia re di Giuda in questi termini va alla casa dei ricabiti e parla loro menali nella casa dell'Eterno in una delle camere e offri loro del vino da bere allora io presi già Zania figliuolo di Geremia figliuolo di Abazzinia i suoi fratelli tutti i suoi figlioli e tutta la casa dei ricabiti e li menai nella casa dell'Eterno nella camere dei figliuoli di Anan figliuolo di Igaldalia uomo di Dio la quale era presso alla camere dei capi sopra la camere di Maeseia figliuolo di Shalom guardiano della soglia e misi davanti ai figliuoli della casa dei ricabiti dei vasi pieni di vino e delle coppe e dissi loro bevete del vino ma quelli risposero noi non beviamo vino perché Gionabdab figliuolo di Recab nostro padre ce l'ha proibito dicendo non berrete mai in perpetuo vino né voi né i vostri figliuoli e non edificherete case non seminerete alcuna semenza non pianterete vigne e non ne possederete alcuna ma abiterete in tende tutti i giorni della vostra vita finché viviate lungamente nel paese dove siete come forestieri e noi abbiamo ubbidito alla voce di Gionadab figliuolo di Recab nostro padre in tutto quello che ci ha comandato non beviamo vino durante tutti i giorni tanto noi che le nostre moglie i nostri figliuoli e le nostre figliuole non edifichiamo case per abitarvi non abbiamo vigna campo né sementa abitiamo in tende e abbiamo ubbidito e fatto tutto quello che Gionadab nostro padre ci ha comandato ma quando Nabucadenestar re di Babilonia è salito contro il paese abbiamo detto venite ritiriamoci a Gerusalemme per paura dell'esercito dei caldei e dell'esercito di Siria e così ci siamo stabiliti in Gerusalemme allora la parola dell'Eterno fu rivolta a Geremia in questi termini così parla l'Eterno degli eserciti lì Dio di Israele va e di agli uomini di Giuda e agli abitanti di Gerusalemme non riceverete voi dunque la lezione imparando ad ubbidire alle mie parole dice l'Eterno le parole di Gionadab figliuolo di Recap che comandò i suoi figlioli di non bever vino sono state messe ad effetto ed essi fino al di d'oggi non hanno bevuto vino in ubbidienza all'ordine del padre loro e io v'ho parlato parlato fin dal mattino e voi non m'avete dato ascolto ho continuato a mandarvi ogni mattina tutti i miei servitori profeti per dirvi convertidivi dunque ciascuno dalla sua via malvagia emendate le vostre azioni non andate dietro ad altri dei per servirli e abiterete nel paese che ho dato a voi ai vostri padri ma voi non avete prestato orecchio e non avete ubbidito sì i figlioli di Gionadab figliolo di Reacab hanno messo ad effetto l'ordine dato dal padre loro ma questo popolo non mi ha ubbidito perciò così parla l'eterno l'iddio degli eserciti l'iddio di israele ecco io faccio venire su giuda e su tutti gli abitanti di gerusalemme tutto il male che ho pronunziato contro di loro perché ho parlato loro ed essi non hanno ascoltato perché li ho chiamati ed essi non hanno risposto e alla casa dei recabiti geramia disse così parla l'eterno degli eserciti l'iddio di israele poiché avete ubbidito all'ordine di Gionadab vostro padre e avete osservato tutti i suoi precetti e avete fatto tutto quello che egli vi aveva prescritto così parla l'eterno degli eserciti l'iddio di israele a Gionadab figliolo di Reacab non verranno mai meno in perpetuo discendenti che stiano davanti alla mia faccia Geremia capitolo trentaseesimo ora venne l'anno quarto di Gioia Chin figliolo di Giosia re di Giuda che questa parola fu rivolta dall'eterno a Geremia in questi termini prenditi un rotolo da scrivere e scrivici tutte le parole che ho dette contro Israele contro Giuda e contro tutte le nazioni dal giorno che cominciai a parlarti cioè dal tempo di Giosia fino a quest'oggi forse quei della casa di Giuda udendo tutto il male che io penso di far loro si convertiranno ciascuno dalla sua via e dalla sua malvagità ed io perdonerò le loro iniquità e il loro peccato allora Geremia chiamò Baruch figliolo di Neria e Baruch scrisse in un rotolo da scrivere a dettatura di Geremia tutte le parole che l'Eterno aveva dette a Geremia poi Geremia diede quest'ordine a Baruch io sono impedito e non posso entrare nella casa dell'Eterno perciò va tu e leggi dal libro che hai scritto a mia dettatura le parole dell'Eterno in presenza del popolo nella casa dell'Eterno il giorno del digiuno e leggile anche in presenza di tutti quei di Giuda che saranno venuti dalle loro città forse presenteranno le loro supplicazioni all'Eterno e si convertiranno ciascuno dalla sua via malvagia perché l'ira e il furore dell'Eterno ha espresso contro questo popolo sono grandi e Baruch figliolo di Neria fece tutto quello che gli aveva ordinato il profeta Geremia e lesse il libro delle parole dell'Eterno or l'anno quinto di gioia chi in figliolo di Giosia re di Giuda il nono mese fu pubblicato un digiuno nel cospetto dell'Eterno per tutto il popolo di Gerusalemme e per tutto il popolo venuto dalle città di Giuda a Gerusalemme e Baruch lesse dal libro le parole di Geremia in presenza di tutto il popolo nella casa dell'Eterno nella camera di Gemaria figliolo di Schaffan segretario del cortile superiore all'ingresso della porta nuova della casa dell'Eterno or Micaiah figliolo di Geremia figliolo di Schaffan udì tutte le parole dell'Eterno lette dal libro scese nella casa del re nella camera del segretario ed ecco che qui vi stavano seduti tutti i capi Elisciama il segretario Delaia figliolo di Schemaia Elnatan figliolo di Akbor Gemaria figliolo di Schaffan Sedechia figliolo di Hanania e tutti gli altri capi e Micaiah riferì tutte le parole che aveva udite mentre Baruch leggeva il libro in presenza del popolo allora tutti i capi mandarono Gehudi figliolo di Netnania il figliolo di Shemania figliolo di Cushi a Baruch per dirgli prendi in mano il rotolo del quale tu hai letto in presenza del popolo e vieni e Baruch figliolo di Neria prese in mano il rotolo e venne a loro ed essi gli dissero siediti e leggilo qui a noi e Baruch lo lesse in loro presenza e quando essi ebbero udito tutte quelle parole si volsero spaventati gli uni agli altri e dissero a Baruch non mancheremo di riferire tutte queste parole al re poi chiesero a Baruch dici ora come hai scritto tutte queste parole uscite dalla sua bocca e Baruch rispose loro egli m'ha dettato di bocca sua tutte le parole e io le ho scritte con inchiostro nel libro allora i capi dissero a Baruch vatti a nascondere tanto tu quanto Jeremia e nessuno sappia dove siete poi andarono dal re nel cortile ripossero il rotolo nella camera di Elishama segretario e riferirono al re tutte quelle parole e il re mandò Gehudi a prendere il rotolo ed egli lo prese dalla camera di Elishama segretario e Gehudi lo lesse in presenza del re e in presenza di tutti i capi che stavano in pie al lato del re ora il re stava seduto nel suo palazzo d'inverno era il nono mese e il bracere ardeva davanti a lui e quando Gehudi ebbe letto tre o quattro colonne il re tagliò il libro col temperino e lo gettò nel fuoco del bracere dove il rotolo fu interamente consumato dal fuoco del bracere né il re né alcuno dei suoi servitori che udirono tutte quelle parole rimasero spaventati o si stracciarono le vesti e benché El-Natham della Ia Gemaria supplicassero il re perché non bruciasse il rotolo egli non volle dar loro ascolto e il re ordinò a Geramil figliolo del re e a Sessai figliolo di Azril e a Scelemia figliolo di Abdeel di Piliare Baruch segretario e il profeta Geremia ma l'Eterno li nascose e dopo che il re ebbe bruciato il rotolo e le parole che Baruch aveva scritte a dettatura di Geremia la parola dell'Eterno fu rivolta a Geremia in questi termini prenditi di nuovo un altro rotolo e scrivici tutte le parole di prima che erano nel primo rotolo che Gioia Chim re di Giuda ha bruciato e riguardo a Gioia Chim re di Giuda tu dirai così parla l'Eterno tu hai bruciato quel rotolo dicendo perché hai scritto in esso che il re di Babilonia verrà certamente e distruggerà questo paese e farà sì che non vi sarà più né uomo né bestia perciò così parla l'Eterno riguardo a Gioia Chim re di Giuda egli non avrà alcuno che segga sul trono di Davide e il suo cadavere sarà gettato fuori esposto al caldo del giorno e al gelo della notte ed io punirò lui la sua progenie i suoi servitori della loro iniquità e farò venire su loro sugli abitanti di Gerusalemme e sugli uomini di Giuda tutto il male che ho pronunziato contro di loro senza che essi m'abbiano dato ascolto e Geremia prese un altro rotolo e lo diete a Baruch figliuolo di Neria segretario il quale vi scrissi a dettatura di Geremia tutte le parole del libro che Gioia chi un re di Giuda aveva bruciato nel fuoco e vi furono aggiunte molte altre parole simile a quelle Geremia capitolo trentasettesimo or il re Sedechia figliuolo di Giosia regnò in luogo di Conia figliuolo di Gioia King e fu costituito re nel paese di Giuda da Nebuchadenestar re di Babilonia ma ne egli nei suoi servitori nel popolo del paese dettero ascolto alle parole che l'Eterno aveva pronunziate per mezzo del profeta Geremia il re Sedechia mandò Geucal figliuolo di Scelemia e Sofonia figliuolo di Maeseia il sacerdote dal profeta Geremia per dirgli De prega per noi l'Eterno lì Dio nostro or Geremia andava e veniva fra il popolo e non era ancora stato messo in prigione e l'esercito di Faraone che era uscito d'Egitto e come i caldei che assediavano Gerusalemme ne ebbero ricevuto la notizia tolsero l'assedio a Gerusalemme allora la parola dell'Eterno fu rivolta al profeta Geremia in questi termini così parla l'Eterno lì Dio di Israele dite così al re di Giuda che vi ha mandati da me per consultarmi ecco l'esercito di Faraone che era uscito in vostro soccorso è tornato nel suo paese in Egitto e i caldei torneranno e combatteranno contro questa città e la prenderanno e la daranno alle fiamme così parla l'Eterno non ingannate voi stessi dicendo certo i caldei se ne andranno da noi perché non se ne andranno anzi quando anche voi sconfiggeste tutto l'esercito dei caldei che combatte contro di voi e non ne rimanesse che degli uomini feriti questi si leverebbero ciascuno dalla sua tenda e darebbero questa città alle fiamme or quanto all'esercito dei caldei che si fu ritirato innanzi a Gerusalemme a motivo dell'esercito di Faraone Geremia uscì da Gerusalemme per andare nel paese di Beniamino per ricever quivi la sua porzione in mezzo al popolo ma quando fu alla porta di Beniamino c'era quivi un capitano della guardia per nome Ireia figliolo di Scelemia figliolo di Anania il quale arrestò il profeta Geremia dicendo tu vai ad arrenderti ai caldei e Geremia rispose è falso io non vado ad arrendermi ai caldei ma l'altro non gli diede ascolto arrestò Geremia e lo menò dai capi e i capi s'adirarono contro Geremia e lo percossero e lo missero in prigione nella casa di Gionatà il segretario perché di quella si era fatto un carcere quando Geremia fu entrato nella prigione sotterranea tra le segrete e vi fu rimasto qui molti giorni il re Sedechia lo mandò a prendere lo interrogò in casa sua di nascosto e gli disse c'è egli qualche parola da parte dell'Eterno e Geremia rispose sì c'è e aggiunse tu sarai dato in mano del re di Babilonia e Geremia disse inoltre al re Sedechia che peccato ho io commesso contro di te o contro i tuoi servitori o contro questo popolo che mi avete messo in prigione e dove sono ora i vostri profeti che vi profetavano dicendo il re di Babilonia non verrà contro di voi né contro questo paese ora ascoltati prego re mio signore e la mia supplicazione giunga bene accolta nel tuo cospetto non ti far tornare nella casa di Gionatablo scriva sì che io vi muoia allora il re Sedechia ordinò che Geremia fosse costudito nel cortile della prigione e gli fosse dato tutti i giorni del pane della vita dai fornai finché tutto il paese della città fosse consumato così Geremia rimase nel cortile della prigione Geremia capitolo trentottesimo Scefatia figliolo di Matam Ghedalia figliolo di Pasciur Giucal figliolo di Scelamia e Pasciur figliolo di Malchia udirono le parole che Geremia rivolgeva a tutto il popolo dicendo così parla l'Eterno chi rimarrà in questa città morrà di spada di fame o di peste ma chi andrà ad arrendersi ai caldei avrà salva la vita la vita sarà il suo bottino e vivrà così parla l'Eterno questa città sarà certamente data in mano dell'esercito del re di Babilonia che la prenderà e i capi dissero al re De sia quest'uomo messo a morte poiché gli rende fiacche le mani degli uomini di guerra che rimangano in questa città e le mani di tutto il popolo tenendo loro cotali discorsi quest'uomo non cerca il bene ma il male di questo popolo allora il re Sedechia disse ecco egli è in mano vostra poiché il re non può nulla contro di voi allora essi presero Geremia e lo gettarono nella cisterna di Malchia figliuolo del re che era nel cortile della prigione vi calarono Geremia con delle funi nella cisterna non c'era acqua ma solo fango e Geremia affondò nel fango or ebedmelec etiopo e nucco che stava nella casa del re udì che avevano messo Geremia nella cisterna il re stava allora seduto alla porta di Beniamino ebedmelec uscì dalla casa del re e parrò al re dicendo o re mio signore quegli uomini hanno male agito in tutto quello che hanno fatto al profeta Geremia che hanno gettato nella cisterna egli morrà di fame laddove giacché non vè più pane in città e il re diede quest'ordine ad ebedmelec l'etiopo prendi teco di qui trenta uomini e tira su il profeta Geremia dalla cisterna prima che muoia ebedmelec prese seco degli uomini entrò nella casa del re sotto il tesoro prese di lì dei pezzi di stoffa logora e dei vecchi stracci e li calò a Geremia nella cisterna con delle funi ed ebedmelec l'etiopo disse a Geremia mettiti ora questi pezzi di stoffa logora e questi stracci sotto le ascelle sotto le funi e Geremia fece così e quelli trassero su Geremia con quelle funi e lo fecero salir fuori dalla cisterna e Geremia rimase nel cortile della prigione allora il re Sedechia mandò a prendere il profeta Geremia e se lo fece condurre al terzo ingresso della casa dell'eterno e il re disse a Geremia io ti domando una cosa non mi scelar nulla e Geremia rispose a Sedechia se te la dico non è egli certo che mi farai morire e se ti do qualche consiglio non mi darai ascolto e il re Sedechia giurò in segreto a Geremia dicendo come è vero che l'eterno il quale ci ha dato questa vita vive io non ti farò morire e non ti darò in mano a questi uomini che cercano la tua vita allora Geremia disse a Sedechia così parla l'eterno l'iddio degli eserciti l'iddio di Israele se tu ti vai ad arrendere ai capi del re di Babilonia avrai salva la vita questa città non sarà data alle fiamme e vivrai tu con la tua casa ma se non vai ad arrenderti ai capi del re di Babilonia questa città sarà data in mano dei caldei che la daranno alle fiamme e tu non scamperai dalle loro mani e il re Sedechia disse a Geremia io temo quei giudei che si sono arresi ai caldei che io non abbia ad essere dato nelle loro mani e che essi non mi scherniscano ma Geremia rispose tu non sarai dato nelle loro mani o Dea ascolta la voce dell'Eterno in questo che io ti dico tutto andrà bene per te e tu vivrai ma se rifiuti di uscire ecco quello che l'Eterno mi ha fatto vedere tutte le donne rimaste nella casa del re di Giuda saranno menate fuori nei campi ai capi del re di Babilonia e queste donne diranno i tuoi familiari amici t'hanno incitato t'hanno vinto i tuoi piedi sono affondati nel fango e quelli si sono ritirati e le tue mogli con i tuoi figlioli saranno menate a caldei e tu non scamperai dalle loro mani ma sarai preso e dato in mano del re di Babilonia e questa città sarà data alle fiamme e Sedechia disse a Geremia nessuno sappia nulla di queste parole e tu non morrai e se i capi odono che io ho parlato teco e vengono da te a dirti dichiaraci quel che tu hai detto al re non ce lo scelare e non ti faranno morire è il re che te l'ha detto rispondi loro io ho presentato al re la mia supplicazione che egli non mi facesse tornare nella mia casa di Jonathan per morirvi e tutti i capi vennero a Geremia e lo interrogarono ma egli rispose loro secondo tutte le parole che il re gli aveva comandate e quelli lo lasciarono in pace perché la cosa non si era divulgata e Geremia rimase nel cortile della prigione fino al giorno che Gerusalemme fu presa Geremia